Allora, buon pomeriggio, buonasera, ben trovati, è il secondo incontro del gruppo di ricerca sulle trasformazioni delle relazioni umane, sociali e tecnologiche. Dopo l'incontro con il professor Mayra abbiamo oggi ospite, c'è un'ora della sua presenza, la professoressa Anna Lizanesi, ordinario di linguistica italiano all'Università di Siena e segretario dell'Accademia della Tusca. Buonasera professoressa, benvenuta all'Università della Tusca, anche se in modalità diciamo non corporea, non materiale. Buonasera, buonasera, è caloroso in questa situazione tutta virtuale, ma ormai questa è la strada e anche quelli che non sono giovani come me l'hanno dovuta per forza intraprendere. Dunque, benvenuti agli studenti, dei quali ovviamente sento la mancanza in carne e ossa, ma comunque mi accontento di sapere che virtualmente ci sono. Nella locandina si dice che io farò una lezione magistrale, ma fedele a come è presentato questo gruppo di lavoro e a come sono presentati l'insieme del lavoro seminariale in questo webinar. Penso che il taglio del mio discorso sia più che altro di tipo veramente molto molto rilassato e colloquiale e che permetta interruzioni di ogni tipo, richieste ad esempi, sulla traccia che io ho pensato di offrire alla riflessione. Dunque, prima di tutto vorrei dire che proprio prendendo spunto da quella che è stato il titolo del vostro gruppo seminariale, il problema della parola, no? E che io ho interpretato la lettera, cioè ho come parola in senso di lessema e non come parola in senso di lingua, perché anche in questa maniera si poteva interpretare. E quindi mi sono spostata immediatamente su questo ambito che è l'ambito del nostro repertorio, cioè il repertorio lessicale della nostra lingua. Ho pensato che descriverne alcune dinamiche potesse in qualche modo aiutare in qualunque mondo ci si trovi ad operare, ad una riflessione che tenga conto di quel pesare le parole, no? Che soprattutto nella comunicazione a certi livelli è assolutamente indispensabile. Lo vediamo un po' in questo momento storico così difficile, come anche la scelta delle singole parole e diventa sempre più rilevante proprio veramente per tutti in questa comunicazione e continua a essere sempre per lo più virtuale. Quindi all'interno ovviamente della società il discorso linguistico è un discorso che cementa, che permette le relazioni e quindi proprio in questo senso conoscerne un po' la storia e le dinamiche anche attuali può essere di aiuto. La lingua è comunque uno strumento di comunicazione, questo è lo scopo per cui parliamo, cioè comunicare. Infatti si può dire che non esiste un atto linguistico se non c'è un bisogno linguistico di comunicazione e i nostri atti linguistici sono atti che hanno differenti obiettivi naturalmente, ma richiedono una cosa essenziale, cioè una competenza comunicativa. Con competenza, dirò sicuramente delle cose che voi tutti conoscete, quindi aiutatemi a snellire se mi soffermo troppo su cose note ai più. La competenza comunicativa non è fatta esclusivamente di competenza linguistica, anche se la competenza linguistica è assolutamente necessaria, cioè bisogna conoscere le regole, la struttura e i registri di una lingua per poterla gestire con una certa abilità. E l'abilità non può prescindere anche dalla conoscenza delle differenze fra scritto e parlato, che sono essenziali proprio in tutti i momenti della comunicazione, a seconda poi di quello che è anche il target a cui io mi rivolgo. Quindi le scelte anche di appropriatezza, non solo appropriatezza nella forma del discorso, ma anche squisitamente lessicali, sono quelle che fanno la cifra della... Scusate, che sono veramente la cifra delle nostre scelte. Media zero, abbiate pazienza, ma mi è suonato e squillato il telefono fisso e ho perso il filo. Dunque, dicevo appunto, non solo l'appropriatezza in quanto conformità alle regole, quindi correttezza anche, ma appropriatezza in senso sociolinguistico, cioè scelta di registri, scelta di elementi da offrire al nostro interlocutore in una maniera che renda efficace il nostro rapporto comunicativo. Più, naturalmente, la conoscenza degli aspetti pragmatici, perché non abbiamo solo bisogno di tutto questo armamentario, armamentario dico linguistico, ma abbiamo anche bisogno di sapere come pragmaticamente ci rapportiamo. Quindi tutte quelle regole, quelle convenzioni comunicative che vanno banalmente dalle forme di cortesia fino a molto di più, l'accompagnamento della cessualità nell'orale, un complesso di elementi che dobbiamo gestire al meglio. E qui mi fermo un momentino per dire come gestire al meglio è qualcosa che chiede un impegno fino ai primi momenti in cui noi cominciamo il nostro percorso scolastico, perché è lì dove eventualmente si vorrebbe, si vuole che si azzerino le differenze che sono del portato, del proprio contesto, della propria formazione. Quindi questo elemento di conoscenza di tutto il meccanismo, di tutti i sistemi, qualche cosa si conquista piano piano, sempre di più nella nostra formazione, finché non dobbiamo anche inserire, questo è un discorso molto precoce, tutto quello che la tecnologia tecnico-scientifica di qualunque scienza si parli, ma anche di qualunque mestiere si parli. Quindi queste componenti importanti che rendono sempre più, come dire, ricca anche la nostra possibilità di scegliere nel vasto mondo delle parole e della nostra lingua. Quindi ora vorrei, proprio perché le parole valgono, pesano, valgono, come scrivono in un libro i miei colleghi, Patota e della Valle, valgono nel senso, che hanno, come dire, una loro storia, un peso nella realtà del passato, un peso nella realtà di oggi e le dobbiamo sapere in qualche modo seguire. Seguire vuol dire anche a volte trovare la necessità di un presidio. Il presidio sono i vocabolari, sono gli strumenti che noi utilizziamo per confortarci nell'uso. e l'uso del vocabolario sembra una cosa che riguarda esclusivamente i primi anni della scuola. Comprate un vocabolario. Tutti hanno un vocabolario. Una volta diceva, tutti in casa hanno uno zingarelli, perché una volta era quello più diffuso in assoluto. Il vocabolario è veramente, o dizionario, è veramente un presidio. È il presidio che, grazie anche alla moderna lessicografia, ci aiuta veramente a fare delle scelte anche sul piano del linguaggio tecnico, perché il linguaggio tecnico è presente nei dizionari. Quindi, questo, naturalmente, l'inventario delle parole è un inventario aperto. Non si deve pensare che tutto il lessico, anche che compare, dentro un dizionario sia tutto quello che abbiamo a disposizione, perché ce n'è molto di più. c'è anche quello virtuale, che può nascere, che è proprio attraverso i meccanismi di formazione. Per cui, siamo di fronte a un insieme che sicuramente muta la sua fisionomia nel tempo, che si accresce, subisce delle perdite, è soggetto a cambiamenti di significato, nel tempo, a volte anche estremamente rapidamente, e quindi va sempre monitorato. Qualche cosa che, non solo facciamo il mestiere di monitorarlo, ma anche ciascuno di noi, come parlante, dovrebbe monitorare il proprio patrimonio, e quindi anche vedere cosa succede al suo esterno quando le parole cambiano. Prima di proseguire e vedere che cosa ci sta dentro a questo insieme e giudicarlo, valutarlo, vorrei fare un piccolo passo indietro, diciamo, a giustificare il titolo di questa mia conversazione, e cioè il fatto che abbia parlato di una lingua giovane. Pensiamo che l'anno prossimo ci sono i festeggiamenti per Dante, l'idea di una lingua giovane potrebbe sembrare alquanto peregrina, ma il fatto è che questo discorso della giovinezza della nostra lingua si lega per l'appunto al concetto di cambiamento, perché dal momento che questa nostra lingua è basata sul tipo fiorentino che si è imposta e con una struttura grammaticale e una gran parte del lessico, che sono le stesse nella lingua di oggi, come lo erano nella lingua, diciamo, come possiamo leggere appunto, ho citato Dante, come possiamo leggere in Dante, e comprenderle ancora oggi queste parole, quindi un patrimonio di lunga durata, e naturalmente non sto parlando di Dante in quanto scelte stilistiche, in quanto pensiero espresso, ma proprio le parole nella loro concretezza, e dunque quindi la nostra è una lingua che ha radici lontanissime, il che contraddice naturalmente l'idea di essere una lingua giovane. Noi comprendiamo però tuttavia ancora la lingua di otto secoli fa, circa, quindi una lingua che ha avuto una continuità, una sua evoluzione, ma soprattutto ha avuto una affermazione lentissima sul nostro territorio. Per questo è una lingua giovane, una lingua da una storia complessa, come tutte le lingue, ma soprattutto una lingua che gli italiani hanno avuto tardivamente, e questo fa la differenza per quanto riguarda il cambiamento. Si assiste a una certa maggiore staticità, per quanto riguarda la grammatica naturalmente, ma soprattutto per quanto riguarda il patrimonio lessicale, dal momento in cui questa lingua, in qualche modo è considerata lingua ormai italiana, e non volgari come poteva essere prima. Quindi questa lingua è una lingua che si imposta, ma è rimasta molto in alto prima di scendere e raggiungere finalmente le orecchie e la bocca dei parlanti, gli attuali italofoni. Si fissa nel Cinquecento come regole, dopodiché ha anche nell'assetto scritto, nel tempo dei mutamenti, da tutti i punti di vista, ma per diventare un problema centrale bisogna aspettare l'Ottocento, e nell'Ottocento la lingua a questo punto è veramente un problema civile, un problema di unità nazionale, è un problema della lingua degli italiani, e questi italiani sono dialofoni a questa altezza cronologica, quindi non la possiedono la lingua, e il rapporto con lo Stato è difficile se non parliamo appunto la stessa lingua. Ecco perché l'opera di Manzoni, che è un'opera importante anche da questo punto di vista, non solo per motivi ovviamente di Manzoni poeta e scrittore, ma per l'impegno civile di Manzoni, perché gli italiani siano dotati di una lingua unica, su questo si potrebbe ragionare molto, trovare anche tutta una serie di cose, come dire, spunti di riflessione complicati, anche avversi per certi aspetti, che fine fanno i dialetti, eccetera, ma quello che ci importa in questo momento è la diffusione di questa lingua, che è tardiva, perché questa lingua in realtà comincia con mezzi, che poi principalmente all'inizio è la scuola, comincia con questi mezzi a diffondersi, e si diffonde lentamente e subisce un'accelerazione nella diffusione, esclusivamente, è un crescendo, ma dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi per questo è una lingua giovane, è antica nello stesso tempo, le due cose convivono, e quindi le maggiori trasformazioni della lingua, quelle anche grammaticali, che sono più lente, che si vedono meno, ma che ci sono, nel lessico, che sono più visibili, e nel lessico si vedono, soprattutto, quando questa lingua comincia a circolare, perché che cos'è che fa il cambiamento di una lingua? È l'uso, è l'uso dei parlanti. Se i parlanti una parola non la colgono, la parola non avrà successo. E come si acclimatano le parole? In qualunque modo ci arrivino, poi lo vedremo, le parole si acclimatano per accettazione, e perché sono conformi al sistema, anche questo ci passiamo un momentino dopo. Ma questo uso e questa recessità delle nuove parole, o anche dei nuovi significati, perché pensiamo, per esempio, ai significati che acquista, che ha, non che acquista, che ha una parola come virtù, nel tempo, con cambiamenti semantici, poi un ritorno anche al senso latino della parola virtù, nel periodo postmedievale e postmedievale. Quindi, ogni parola ha, si può dire una sua storia, come diceva Angelico Prati, un linguista di metà novecento. Quindi, ogni parola va studiata di per sé, anche, o nel gruppo di parole di pertenenza, si studiano, si studiano nel complesso insieme, per esempio, le parole del lessico intellettuale europeo, e se ne vede, e se ne esegue il cambiamento semantico, in questo caso. Ma come, com'è che avvengono questi cambiamenti, e accettati dall'uso? Perché ci sono cambiamenti sociali e culturali, non possiamo chiamare le cose nello stesso modo, o, se le chiamiamo con la stessa parola, questa parola ha da adeguarsi al cambiamento social, sociale e culturale. Poi ci sono fattori di contatto con altre lingue, che oggi possono sembrare uno degli aspetti preminenti, ma non lo sono necessariamente, l'utilizzazione fatta dai parlanti, e anche in qualche modo il gusto. Vorrei a questo punto fare un esempio, un esempio che, diciamo, per il quale ho impostato uno studio che non è assolutamente terminato, quindi ve lo do così, come semplice serie di osservazioni, del tutto preliminari, per le quali si può anche aver bisogno, diciamo, di stimoli, anche dagli altri. Prendiamo una parola come barbone. Barbone, se apriamo un dizionario, osserviamo che il barbone e il clochard hanno più o meno la stessa, hanno la stessa, sono sinonimi. Poi abbiamo senza tetto. Ecco, anche in questo caso, scusate, un attimo, Nel frattempo saluto il collega di Gregorio. No, non si può, ormai si può starutire, sono lontano da tutti, anche se siamo in condizione virtuale. Dunque, dicevo appunto, in questo caso specifico, abbiamo tre parole che sono date come sinonimi. Poi, se noi ci mettiamo a guardare, cercare su Google le occorrenze, le quantità, i luoghi dove vengono utilizzati, vediamo sicuramente che senza tetto ha così a occhio una quantità maggiore di presenze negli ultimi anni, mentre lo hanno di meno barbone e clochard. Qual è la storia di queste parole? Da un punto di vista squisitamente storico, si dice, in prima parola sicuramente, barbone, è una metonimia, perché dalla grossa barba passa a significare la persona con la grossa barba, in particolare, una persona, un vagabondo che vive ai margini della vita sociale, che non ha una dimora, che non vive spesso appunto di mendicando o di espedienti, questi sono pezzettini di citazione di dizionario. Il clochard arriva nel 68, è chiaramente un esotismo, cioè un forestierismo, vuol dire appunto le significazioni sempre barbone, vagabondo, viene da clochard su picare, è il francese clochard. E poi nell'87 entra homeless, che è senza casa, senza, quindi senza fissa dimora. Allora, queste tre parole, io vorrei leggere la definizione di quando la parola per la prima volta, barbone in questo caso, è registrata dai dizionari. La registra Migliorini, nel dizionario di Panzini, Migliorini cura l'edizione, ma anche un appendice, ed è una parola che dice, e che viene registrata come una parola sostanzialmente di dialetto. A Milano si chiamano popolarmente barboni i vagabondi, spesso pregiudicati, frequentatori delle panchine durante il giorno, dei dormitori durante la notte. Ma questo è un pezzetto di vita, c'è un pezzetto di società, non è soltanto una definizione di dizionario, ci fa vedere che cosa si intendeva in questo momento come descrizione del significato di barbone. Crochard arriva dopo, spesso sostituisce barbone, ha un'idea, come dire, essendo comunque una parola che proviene da un'altra lingua, come dire, quasi più attutisce, in qualche maniera l'aspetto negativo, i tratti negativi che ha in sé la definizione di barbone. Poi nel 87 arriva homeless, ma non vuol dire esattamente la stessa cosa quando noi lo utilizziamo in italiano. E poi abbiamo senza tetto, ma senza tetto è colui che è rimasto privo di abitazione, magari in seguito a una calamità naturale. Però vuol dire anche vagabondo e barbone. Allora, se noi pensiamo ad oggi, andiamo a guardare un po' quello, i giornali, ecco, perché lì possiamo misurare certe cose, ci rendiamo conto che c'è una una questione forse di gusto, ma anche di, come dire, di bisogno di attenuazione, bisogno di mutare la parola barbone in qualcos'altro che sia più vicino a come oggi noi intendiamo questo tipo di mondo che fa comunque parte della nostra società, anche se si parla di persone che da questa società, come dicono i dizionari, ne vivono al margine. Ma ci sono diversi testi interessanti da questo punto di vista, non sono testi linguistici, come Barboni, Clochard, Homeless, Persone, di Dell'Ara del 2016, ma altri testi che ci fanno vedere che il significato che questa parola non ha solo un significato così velocissimamente sintetizzabile nella descrizione di un dizionario, ha qualcosa di più, ha una relazione con l'esterno, come la usiamo ha la sua importanza, come la usiamo, che intenzioni diamo a questa parola, quindi quando dicevo una questione di gusto ma anche di come dire di politesse, di correttezza nel chiamare diciamo nell'identificare le persone, per cui trovo che senza tetto è più frequente anche se non vuol dire esattamente nei testi che ho letto, testi giornali, rubriche, eccetera, non significa necessariamente uno che è senza tetto ma corrisponde alla persona che per motivi dei più vari che non sono solo le calamità naturali si trova a far una vita ai margini. Questo discorso coinvolge per esempio tutte le parole che riguardano la migrazione. non mi fermo e non faccio esempi ma penso di avere come dire spiegato il concetto di come una parola può entrare in uso e soppiantarne altre proprio perché c'è un'esigenza di un adeguamento alla realtà differente. e in più in questi casi ci vede anche in contatto con altre lingue perché una è una parola francese homeless che troviamo anche è una parola che viene dall'inglese quindi abbiamo un panorama che ci fa vedere un po' tutti i movimenti possibili in qualche modo. comunque detto questo e ritornando uscendo dall'esempio il discorso riguarda anche la questione delle novità che noi mettiamo in campo possiamo formarle le nuove parole e queste sono neologismi fin tanto che non sono talmente condivisi che non ci accoggiamo più che sono nuovi. Ora se noi pensiamo a questo nostro grande patrimonio di parole per esempio nei nuovi strumenti monolingui che si rivolgono soprattutto alla lingua dell'uso come per esempio il gradito di De Mauro noi contiamo circa 200 grossomodo 260.000 parole considerando che queste sono comprese anche le parole grammaticali per parole grammaticali si intende tutto quello che è preposizioni congiunzioni che servono a legare il discorso ovviamente quindi un patrimonio che comunque non è appannaggio di tutti così globalmente ma poi non è nemmeno come dire non può esserlo perché in questo ci sono anche delle parole che sono diventate ormai obsolete che troviamo soltanto nei libri che fanno parte ormai di un'alteratura del passato ma quello che è importante è che in questo patrimonio documentato troviamo le parole che sono da considerarsi fondamentali e le parole che sono da considerare di alto uso tutto questo è perché l'italiano ora è usato e quindi essendo usato possiamo anche misurare in qualche modo per esempio con i lessici di frequenza e le analisi di frequenza del parlato e dello scritto possiamo effettivamente misurarlo e vedere come viene utilizzato ormai gli studi sono andati molto avanti la ricerca sul campo anche è andata molto avanti e quindi e oggi sicuramente abbiamo anche un numero di talofoni assolutamente più elevato rispetto all'inizio della nostro stato unitario quindi l'italofonia è più diffusa e quindi è chiaro che misuriamo l'italiano comune corrente di tutti e appunto proprio nell'esaminare da un punto di vista psicologico tutta la situazione l'immensa situazione i immensi dati che si sono raccolti negli anni De Mauro fa una divisione assolutamente come dire utile e funzionale e basata assolutamente su studi approfonditi di come sta com'è lo stato di questo nostro insieme di parole ci sono le parole fondamentali che sono nel 90% di testi scritti e parlati sono quelle che tutti noi per lo più condividiamo ci sono parole di alto uso e che significa questo sono parole che hanno una frequenza estremamente alta all'interno di tutti i nostri discorsi scritti e parlati questo è un fatto di grande rilievo da tenere a mente della quantità di parole che ricorrono sempre di più e che tutti dominiamo in qualche misura però esistono anche delle parole che sono ad alta disponibilità che parole sono queste queste sono parole che se anche sono relativamente rare nello scritto o nel parlato di tutti noi però denominano denominano cose che fanno parte della nostra quotidianità e che siamo in grado di comprendere anche se non lo usiamo faccio un esempio normale che del corpo umano ma voglio dire tutti noi capiamo la parola malleolo se non altro per avere letto qualche referto medico ma magari perché c'è accaduto qualcosa ma perché queste parole è a disposizione ed è conosciuta anche se non non la usiamo quando sbattiamo una caviglia noi usiamo altre parole spesso anche dialettali per indicare questa parte del corpo però è a disposizione vuol dire la nostra capacità di comprendere parole più alta che non quella di produrle e naturalmente questo insieme è il vocabolario di base attivo o non attivo è il vocabolario di base ora questo vuol dire che esiste un insieme di elementi che noi condividiamo appieno quindi sono quelle parole che se le usiamo tutti le comprendono questo non significa non dobbiamo usare i termini tecnici che ci servono perché altrimenti non ci intendiamo all'interno delle discipline e quindi su questo poi torniamo un momento ma voglio dire se noi prendiamo un esempio velocissimo una parola come rete ma più antica di così voglio dire viene dal latino è una parola ereditata dal latino non ha avuto neanche grandi cambiamenti dal punto di vista formale è una parola che attestiamo all'incirca nel dodicesimo secolo ed è un attrezzo per intrecciato che serve a catturare i pesci e gli uccelli e anche per la caccia ma via via questa parola che cosa accade a questa parola ha un incremento ha significati estensivi a quel punto diventa esclusivamente una parola non esclusivamente diviene una parola che può avere dei significati esclusivi a secondo dell'ambito dove noi la incontriamo per cui se la troviamo nello sport la rete vuol dire qualche cosa di ben diverso dal suo elemento originario ma tutti siamo poi in grado di capire rete di sicurezza o il fatto che si ha una idea stradata della rete e quella delle linee che incrociano meridiani e paralleli formando giusto appunto una rete ma che è anche un tipo di tessuto quindi abbiamo fino ad arrivare a un significato molto più recente che quello di canale radiofonico o televisivo o rete rete nel senso anche della rete che ci consente di comunicare in maniera più moderna e che ci salva in qualche modo dall'isolamento anche se non è una rete di sicurezza quindi abbiamo la possibilità di vedere parole che si perpetuano nel tempo ma che via via acquistano significati anche tecnici perché è chiaro che in anatomia la rete è un intreccio di vasi o di nervi molto sottili quindi in quel senso è un significato tecnico che non è detto che tutti debbono o possano condividere ecco questo ci fa riflettere però perché se ci sono dei termini che si chiamano appunto termini scientifici o termini settoriali fanno parte dei sottocodici di tutte le nostre discipline e di tutti i settori del nostro sapere abbiamo bisogno di parole tecniche ne ha bisogno la linguistica ne ha bisogno la giurisprudenza ne ha bisogno la burocrazia ne ha bisogno la medicina e via e via dicendo e quindi la stessa parola quando assume in quelle aree un significato tecnico anche se esiste come parola comune non ha più quella quella valenza e va capita la differenza ovviamente ecco perché l'avvicinarsi alle discipline scientifiche come è stato per tutti noi la prima volta che abbiamo incontrato la matematica la geometria la fisica è niente altro che appropriarsi anche di parole che sono costitutive di quel sapere e quindi molto spesso anche con valenza di significato bionivoco proprio il rapporto uno a uno che è quello che consente diciamo di non nessuna sbavatura di significato riguardo alla polissemia anche se questo poi non avviene sempre e di norma ma questa in questo periodo storico sempre direi ma in questo momento in particolare certo lessico acquista una rilevanza nella comunicazione esterna che in questo caso in questo periodo della pandemia è un martellamento continuo di questioni che riguardano tutti gli ambiti che sono deputati a in qualche modo governare questa situazione e quindi tutto ciò che riguarda o riguardava prima gli addetti ai lavori quindi noi siamo stati esposti moltissime a moltissime parole cosa sono gli anticorpi monoclonali probabilmente nessuno di noi prima di questo momento se ne era occupato anche se sono tutte e due due parole che si trovano fino dagli anni 80 anticorpo addirittura primi del novecento però in questa combinazione noi riceviamo oggi allora che cosa sono le parole tecniche e che valore hanno le parole tecniche hanno un grande valore per chi si occupa di questi del proprio ambito tecnico e scientifico ma quando escono da questo ambito e devono essere spiegate ecco perché la divulgazione in tanti campi è estremamente difficile proprio perché bisogna addestrare alle parole o spiegare le parole non darle così e questo vale per tanti ambiti non solo quello della medicina che ci sta a costo perché riguarda la nostra salute ma anche tutto il resto che cosa vuol dire spread il mondo della finanza parole come spread sono entrate poi qualcuno finalmente le ha spiegate forse non abbiamo nemmeno tutti noi comuni mortali non addetti a lavori capito fino in fondo ma c'è stato un periodo nel cui tutti ci si documentava per capire meglio ecco quindi il nostro lessico si allarga attraverso l'ascolto e alla partecipazione a parole che vengono da altri ambienti ma che proprio per questo hanno bisogno di essere spiegate ecco perché la comunicazione è importante che sia una comunicazione nelle quali le parole vengono se necessario spiegate o tradotte in caso siano parole che provengono da altre lingue poi naturalmente nel nostro insieme troviamo tantissime altre cose ovviamente il nostro insieme questo nostro grande pacchetto questo grande nostro archivio ci sono le parole sono solo di uso letterario la nostra rete di cui abbiamo parlato prima ma significa anche inganno insidia che noi useremo certo comunemente ci sono i regionalismi dai quali non ci distacchiamo ognuno ha e la nostra lingua è ricca di elementi regionali e ci sono poi le parole che assumiamo dal dialetto quelle che sono diventate talmente stabili che non ci accorgiamo nemmeno arrivano dal dialetto come per esempio una parola come scoglio come vongola ma altre invece che ancora si può sentire che hanno una loro matrice di un'area letale come fusilio gattara semplicemente perché è la suffissazione che non è dell'italiano ma è in un caso diciamo in una suffissazione in Nilo è di area meridionale e anche in ARA non è sicuramente dell'italiano di base toscana perché la suffissazione non è in ARA ma sarebbe stata in AIA quindi abbiamo delle tracce di questo ma quello che e quindi abbiamo anche tutto questo altro insieme di cose che ci fanno che ci devono far decidere ci rendiamo sempre conto se usiamo un regionalismo e con che cosa lo possiamo sostituire delle volte con niente perché resta quello perché rimane in un ambito anche di vita più quotidiana di vita comune alcuni li conosciamo anche altri sono entrati direttamente e li utilizziamo anche se li abbiamo presi da altre regioni quindi abbiamo un insieme ma per quello che riguarda veramente il patrimonio di parole che servono a comunicare l'importanza maggiore è sempre l'occhio al cambiamento della società perché il cambiamento sociale fa sì che noi si debba come dire riflettere sulle parole da utilizzare certe parole che possono essere neutre possono diventare successivamente offensive per esempio oppure denigrative quindi c'è questo elemento per quanto riguarda invece il lessico specifico delle diverse aree il problema della chiarezza è assai compito a volte difficile perché chiede di essere addentro in maniera straordinaria ora nella legge ora negli aspetti della burocrazia ora negli aspetti della medicina o dell'ingegneria e così via ma e quindi questo aspetto riguarda nell'oggi è sensibile è un discorso molto sensibile il fatto della forte permeabilità ad altre lingue in modo particolare l'inglese sul quale c'è un grande dibattito e dall'altro invece il bisogno della chiarezza espositiva nella spiegazione di certi fatti cose che sono che devono essere condivise da tutti ecco perché io come dire cioè per me è sempre un invito a riflettere e soprattutto ad avvicinarsi a dei testi che io considero fondamentale anche fondamentale anche per chi non è uno studente di lettere che sono appunto la storia linguistica dell'Italia unita di De Mauro e la storia linguistica dell'Italia repubblicana che è il seguito in qualche modo dove fra l'altro si ha la misura del cambiamento si ha la misura del cambiamento sociale perché in realtà sono testi sociolinguistici non sono testi esclusivamente linguistici e soprattutto dove si dà un largo spazio ai fattori del cambiamento nella modernità la forte relazione quanto gli italiani hanno imparato la lingua proprio grazie al fatto di essersi avvicinati per esempio al mondo dei sindacati anche se prima non parlavano l'italiano così in maniera così ricca per esempio o così come dire sicura o come per esempio De Mauro ci fa riflettere sul testo della nostra Costituzione che non solo si dovrebbe leggerla a prescindere ma che è il testo che e su questo concludo perché voglio dirlo con le sue parole che sono molto più significative delle mie che il testo della Costituzione utilizza parole si potrebbe dire normali cioè parole comuni è l'esempio di come si può veramente e come invece non succede non succede per altri aspetti dei testi legislativi che per noi mortali sono assolutamente oscuri e ci dobbiamo far interpretare ma dice De Mauro questo non vi è testo legislativo italiano che possa vantare una caratteristica di così larga accessibilità e nella stessa saggistica informativa anche quella curata dal punto di vista della leggibilità tali furono i libri di base degli editori uniti dall'ottanta all'ottantanove gli indici di leggibilità si collocano poco sopra il quaranta per cento soltanto raramente raggiungono il cinquanta o più cosa che non è della Costituzione con l'ultima considerazione il discorso si è venuto sensibilmente spostando dal considerare le proprietà di leggibilità della Costituzione in rapporto agli utenti siamo passati al confronto tra la leggibilità della Costituzione e quella di altri testi non occorre ulteriormente sottolineare l'eccezionalità linguistica della Costituzione rispetto alla frustrante illegibilità del corpus legislativo italiano e questo vale se vale per la legge dovrebbe a mio avviso valere come riflessione di tutti noi ognuno nella sua specialità e di tutti i giovani che alle specialità si avviano di considerare la ricchezza del proprio lessico tecnico ma di saperlo porgere quando è il momento di coinvolgere gli altri ecco che la rete sociale diventa più forte perché più forte è l'intercom comprensione che è favorita da chi è mediatore ciascuno della propria disciplina grazie grazie davvero professoressa Nessi della sua bellissime riflessioni grazie anche per aver concluso parlando della Costituzione diciamo lo vedo come un omaggio all'impegno che noi abbiamo in questi anni diciamo così speso nell'università per dare al diritto costituzionale e alla Costituzione un ruolo importante anche nelle scuole del nostro territorio e a questo punto prima di riuscire per riservarmi alcune considerazioni ho puntato a molte cose e darei la parola ai colleghi nell'ordine che ci siamo insomma definiti in sede di Locadina e ovviamente se i ragazzi hanno delle domande di interventi si tengano pronti a farli do quindi la parola alla collega Chiara Moroni che insegna sociologia e che interverrà sul tema proprio delle nuove cifre linguistiche rispetto alla parola prego Chiara grazie grazie Alessandro e grazie soprattutto alla professoressa che davvero ha dato tanti spunti interessanti alcuni dei quali poi convergono con le cose che intendevo io discutere con voi oggi quindi come dire c'è un filo che ci lega è molto interessante quello di cui vorrei oggi parlare sono quelle nuove chiamiamole nuove ma poi vedremo che proprio nuove non sono ma diciamo le nuove funzioni che alcuni elementi comunicativi stanno assumendo nella nostra società contemporanea dico che non sono nuovi perché parliamo soprattutto di immagini e di simboli diciamo così che in maniera figurativa rappresentano dei concetti e che perché dico che non sono nuovi perché diciamo che l'esigenza comunicativa è stato il primo grande stimolo dell'uomo ed è stato uno stimolo come diceva anche la professoressa relazionale cioè non c'è l'atto comunicativo si realizza nel momento in cui c'è un bisogno comunicativo e quindi gli uomini pensiamo agli uomini primitivi avevano questa esigenza di comunicare tra loro e cominciano a farlo sviluppando poi gradualmente un sistema che era sempre il più efficace possibile per prendere questa comunicazione più comprensibile reciprocamente e più efficace e anche più funzionale rispetto a quello che era sostanzialmente il bisogno di socialità che è un bisogno che appartiene all'uomo in quanto proprio essere umano pensiamo alle pitture rupestri pensiamo a come diciamo l'uomo ha innanzitutto cercato di utilizzare le immagini prima ancora che la scrittura venisse inventata per comunicare qualcosa non solo ai suoi contemporanei ma anche evidentemente con un intento non sappiamo quanto consapevole di trasferire sul futuro è un concetto che non sappiamo non sappiamo appunto se qui era un concetto che avesse l'uomo delle caverne diciamo così semplificando però sicuramente quelle cose lì sono rimaste e sono rimaste a raccontare delle cose quindi diciamo quelle pitture rupestre sono la prima forma di narrazione che ha poi sviluppato tutta una serie di funzioni venivano raccontate quelle vicende che sono vicende di caccia e vicende di vita relazionale comune proprio perché dovevano in qualche modo sviluppare un senso di identità di identificazione nella comunità e perché si spiegasse anche alle generazioni ai più giovani che cosa significasse andare a caccio che cosa significasse per le donne per esempio rimanere diciamo nel nucleo familiare e sociale ristretto sappiamo che da faccio una sintesi veramente insomma molto radicale però mi serve per arrivare poi a quello che vorrei ad oggi e a quello che vorrei dire oggi che cosa rappresentano oggi le immagini eccetera sappiamo che dalle pitture rupestre siamo passati ai pittogrammi che erano una forma in qualche modo semplificata ma erano sempre comunque immagini raffigurazioni pittoriche fino a passare agli ideogrammi che è appunto un processo di ulteriore sintesi che si avvicinava sempre di più all'idea di sostituire una descrizione dettagliata con un simbolo con uno strumento diciamo di comunicazione più immediato e in qualche modo semplificato anche fino ad arrivare appunto i sumeri che hanno inventato come sappiamo la scrittura cuneiforme che hanno completamente trasferito la complessità di una pittura di un disegno di una raffigurazione per immagini in un simbolo sintetico che perdeva completamente il legame con la fisicità di quello che andava raccontando era un segno che significava quello ma che aveva fisicamente un altro tipo di immagini di raffigurazione tutto questo è un percorso che insomma se noi andiamo a vedere perché per esempio i sumeri hanno inventato la scrittura cuneiforme era una questione un interesse sociale di relazione cioè i sumeri avevano bisogno di scriva avevano bisogno di registrare molto rapidamente il pagamento dei tributi quindi è qualcosa che la scrittura ma anche insomma tutta la comunicazione che ha a che fare con la simbologia che viene dalla scrittura è una relazione è una relazione che evidentemente si lega alla dimensione del sociale e in qualche modo questo elemento non soltanto come dire diventa una caratteristica che distingue l'uomo dagli altri esseri viventi ma ha tutta una serie proprio di funzioni sociali cioè che serve a definire meglio a rafforzare quella relazione che per l'uomo diventa fondamentale cioè lo stare insieme in un certo modo quindi la scrittura e il linguaggio di conseguenza diventano hanno delle funzioni che sono innanzitutto relazionale ma in qualche modo anche identitario cioè si stabilisce una forma di identificazione grazie al conoscere al condividere come un certo oggetto può essere definito e chiamato ma anche normativo poi qui insomma uso questa parola con estrema cautela perché i giuristi che sono presenti poi però insomma ha una funzione normativa e ha una funzione mnestica cioè diventa la memoria della collettività grazie alla quale ci si può identificare quello di cui oggi questa era un po' una brevissima e appunto ripeto sintetica all'estremo però mi serviva appunto per ragionare oggi su quei tre elementi di cui vorrei discutere brevemente con voi che sono gli elementi che in qualche modo stanno modificando la comunicazione sociale per comunicazione sociale intendo non tecnicamente parlando insomma la comunicazione con interessi sociali ma la comunicazione che tiene insieme la comunità che tiene insieme le persone che vogliono stare insieme questi tre elementi sono molto legati alla contemporaneità sono molto legati agli sviluppi tecnologici che la comunicazione di cui la comunicazione si può avvalere a partire dagli ultimi diciamo quindici dieci vent'anni dieci anni e sono innanzitutto una riutilizzo sociale delle immagini un riutilizzo delle immagini che diventano in se stesse fonte di conversazione ma adesso lo vedremo poi chiaramente le immagini e tutto quello che significa ma questa nuova forma diciamo così di comunicazione che si è andata sviluppando sempre di più che sono appunto le emoticon e le emoji e vedremo che significa e perché in qualche modo hanno questa funzione così importante nella comunicazione mediata al computer e infine una nuova forma che mette insieme un po' diciamo la dimensione delle immagini ma anche il testo e che sono possibili sono nate soltanto grazie al fatto che esiste una dimensione digitale che sono i meme sono appunto vedremo delle diciamo unità semantiche che in qualche modo ricontestualizzano dimensioni dell'immaginario collettivo e le utilizzano per altri fini comunicativi abbiamo visto come le immagini pensiamo appunto di nuovo alle rappresentazioni di lupesti come le immagini costituiscono la prima forma di comunicazione ma ancora oggi in qualche modo sono di fondamentale importanza anzi spesso si sente dire viviamo nell'era delle immagini cioè dove tutto è immagine dove tutto si trasmette con più immediatezza e con più efficacia emotiva attraverso le immagini se ci pensate però l'arte pittorica pensate anche semplicemente a tutta l'arte sacra cioè come per esempio la cultura cattolica il cristianesimo abbia utilizzato la pittura sacra cioè le immagini sacre per raccontare veicolari cioè in senso pedagogico no di formazione diciamo così sugli elementi diciamo religiosi laddove il linguaggio e la scrittura non potevano arrivare quindi questo ci dice un po' che l'immagine ha un potere ulteriore rispetto o comunque diverso rispetto al linguaggio che è appunto universale ora anche per le immagini esiste una grammatica molto rigida cioè anche per le immagini esiste un modo per essere perché vengano in qualche modo lette però come dire in qualche modo le immagini nonostante le differenze diciamo culturali interpretative possono essere un linguaggio davvero universale e queste caratteri questa potenzialità questa potenza delle immagini dipende anche non soltanto da caratteristiche intrinseche dell'immagine ma anche da come funziona il nostro cervello questo è molto interessante perché la comunicazione in un'era in cui deve essere veloce immediata emozionale usa proprio le immagini non le parole lo fa perché il nostro cervello è strutturato in modo tale che le immagini vengano processate come si dice in maniera più immediata e efficace di quanto non avvenga per le parole vi do diciamo alcune indicazioni veloci proprio numeriche allora circa il 50% del nostro cervello è dedicato a processare immagini cioè a qualche modo trasformare le immagini in un significato che ha un qualche che assume poi una qualche valenza diciamo così interpretativa per la persona ehm il 70% degli input sensoriali che noi riceviamo viene dalla vista quindi la maggior parte delle cose che noi percepiamo del mondo ci arrivano attraverso quello che è appunto le immagini che è che è appunto ciò che vediamo e un'ultima cosa questo è tra l'altro fonte di grande interesse per chi delle immagini e della comunicazione per immagini fa poi uno strumento di persuasione penso alla pubblicità penso alla comunicazione politica cioè le persone ricordano solo il 10% di quello che ascoltano il 20% di quello che leggono e l'80% di quello che vedono o che esperiscono direttamente quindi che comunque ha a che fare con con ciò che vedono perché anche l'esperienza si attiva altri sensi però essenzialmente avviene attraverso qualcosa che io vedo e vivo che cosa accade poi però perché usiamo in qualche modo le usiamo le immagini per comunicare c'è un bellissimo un bellissimo libro di un esperto di immagini francese che parla di di un potere delle immagini che ha un potere conversazionale significa che in qualche modo le immagini hanno grazie a la comunicazione digitale grazie social network hanno sostituito il potere di relazione che normalmente invece noi attiviamo con fin qui con il parlato quindi in qualche modo noi ci scambiamo immagini succede anche nel nostro quotidiano ci inviamo un'immagine invece magari di scrivere un messaggio perché quell'immagine sappiamo avrà essa stessa il potere di instaurare una conversazione con la persona a cui la mandiamo con una ricchezza semantica che è maggiore rispetto a quella che potrebbe avere uno scritto perché anche perché in qualche modo quando noi questo insomma si aveva questo problema anche quando abbiamo cominciato a parlare di comunicazione immediata c'è un bellissimo libro di Thompson che appunto la comunicazione si riferisce alla comunicazione immediata prima dal telefono poi dalla televisione dalla radio cioè dagli strumenti di comunicazione di massa cioè cominciamo a dire attenzione perché tutti questi strumenti permettono tante cose cioè garantiscono l'esperienza a distanza garantiscono la relazione a distanza però riducono la capacità espressiva i codici di comunicazione che normalmente abbiamo noi siamo abituati ad avere nella comunicazione interpersonale quindi come sostituiamo la mancanza di questi codici grazie nell'ambito della comunicazione immediata al computer c'è qualcuno che ha cominciato a dire vabbè ma noi aggiungiamo dei segni che non sono lettere aggiungiamo dei segni che in qualche modo permettano di inquadrare diciamo il tono della conversazione no? qual è la ricchezza della voce ma anche della reazione faccia a faccia è che noi sentiamo la voce guardiamo l'espressione del viso condividiamo il contesto chiaramente il contesto dà anche il frame interpretativo in che contesto siamo cioè siamo in un contesto una unizione universitaria in un'aula universitaria oppure siamo al bar con gli amici il contesto che circonda le persone che comunicano definisce il tono della comunicazione nella comunicazione immediata al computer questa cosa manca no? perché siamo in un certo senso totalmente cioè siamo lontani a volte capita telefoniamo a qualcuno e non capiamo perché ci risponde un po' stranito ma noi non sappiamo in che contesto è quella persona no? quindi chiaramente questa riduzione dei codici di comunicazione può far saltare la comprensione del messaggio della comunicazione quindi creare la comunicazione interpersonale renderla più complessa e diciamo meno immediata allora nel computer che cosa sono nate prima le emoticon che sono diverse dalle emoji come sapete insomma non vi devo dire specificare questa cosa ma le emoticon in realtà erano appunto delle rappresentazioni grafiche che arricchivano in qualche modo il contenuto delle email inizialmente che erano in cui si usavano sostanzialmente i segni di cioè appunto la virgola i due punti i trattini eccetera e che dovevano in qualche modo c'era un codice chi le usava sapeva che per esempio i due punti e la parentesi rappresentavano un sorriso questa cosa poi nel tempo si è evoluta come tutto ciò che riguarda molto rapidamente si è evoluta come tutto ciò che riguarda la comunicazione al computer e sono state create quelle che oggi vengono definite le emoji che sono appunto come dire delle vere e proprie raffigurazioni cioè delle immagini non sono più cioè segni utilizzati per altro ma sono pensate per rappresentare esattamente quello che vogliono rappresentare e inizialmente dovevano essere appunto un facilitatore di comunicazione cioè se io mi hanno un messaggio siccome non posso usare il tono della voce siccome non si sa in che contesto siamo un contesto comunicativo siamo allora utilizzo le emoji che in qualche modo hanno il frame di senso del messaggio cioè devono essere appunto dei facilitatori della comunicazione un arricchimento in qualche modo semantico ma anche emotivo perché molte delle emoji rappresentano delle emozioni e questo è un altro elemento fondamentale no? perché l'aumento dell'uso delle emoji come l'aumento dell'uso delle immagini in qualche modo ha a che fare anche con una trasformazione generale della società che passa dall'essere più o meno analitica critica eccetera all'essere soprattutto una società emotiva per cui la relazione sociale diventa una relazione che si realizza essenzialmente su elementi di sentimenti ed emotività allora le emoji rappresentano delle emozioni e si aggiungono al messaggio spesso testuale o perlomeno fino a un certo punto si aggiungevano al messaggio testuale proprio per dare un aiuto in più a che riceveva il messaggio per comprendere esattamente di che cosa si stava parlando in realtà però quello che è un po' il tema il titolo diciamo che mi è stato in qualche modo assegnato di questa breve relazione è proprio l'idea che invece le emoji stiano soprattutto nelle generazioni più giovani stiano sostituendo le parole e questa cosa è anche facilitata dal sistema stesso perché non so se vi capita quando si scrive per esempio un messaggio un whatsapp spesso se avete diciamo così la scrittura predettiva cioè se il sistema vi suggerisce la parola successiva che state per scrivere vedrete che vi compare anche l'immagine che sostituisce la parola quindi le emoji stanno diventando non soltanto appunto un aiuto un inquadramento semantico ed emozionale del messaggio ma diventano il messaggio stesso e quindi non più soltanto la singola parola ma anche l'emozione ma anche in qualche modo in genere il pensiero più complesso per cui stiamo passando da una articolazione verbale che comunque anche se scritta implica un certo tipo di attenzione per scrivere un messaggio noi ci pensiamo in modo come costruirlo che cosa vogliamo dire l'emoji sostituisce tutto questo e rende sì la comunicazione molto veloce immediatamente comprensibile però in qualche modo riduce la nostra capacità argomentativa di costruire un pensiero complesso e non a caso prima la professoressa si faceva riferimento all'uso che si fa delle parole l'uso delle emoji è stato talmente dirompente nella comunicazione da renderlo quasi esclusivo in qualche modo come d'altra parte ho la fortuna di osservare le nuove generazioni molto da vicino mi sono resa conto che per esempio nelle app di messaggistica pensa a Whatsapp soprattutto i giovanissimi tendono non più tanto c'è stato un passaggio ulteriore non più tanto a utilizzare le emoji come sostitutivi di concetti come sostitutivi di emozioni ma addirittura i selfie come sostitutivi di parole di emozioni cioè se io devo dire a un mio amico che sono stanca che sono arrabbiata che sono felice mi faccio un selfie in cui sorrido e il mio amico capisce che sono felice cioè loro stanno proprio perché l'uso fa diciamo il potere di questi strumenti di questi codici e diciamo le nuove generazioni stanno di nuovo modificando con molta velocità l'utilizzo di queste cose fino ad arrivare a sostituire totalmente il testo scritto ma anche queste forme artificiali in qualche modo di espressione emotiva per tornare ad essere loro protagonisti diciamo diretti di questa espressione emotiva però senza parole cioè con la con la mimica diciamo così quindi per chi come noi diciamo non solo partiamo da una generazione diversa ma che studiamo le parole nel loro potere descrittivo ma anche creativo della realtà rimaniamo un po' come dire spaisati perché che cosa che cosa può apportare tutto questo però è molto interessante perché ripeto dimostra come in realtà soprattutto in un contesto come quello digitale in cui tutto si si modifica molto rapidamente come dire le abitudini comunicative si modellino in base all'uso che le persone fanno di questi degli strumenti che hanno basta vedere con quanta rapidità i social network comunque anche le app di chat modificano le proprie potenzialità in base alla verifica che fanno di come le persone usano come le persone usano un social poi definisce le possibilità che quel social di ta quindi è un costante come dire modificarsi sulla base dell'uso sociale e individuale che le persone che le persone fanno l'ultimo elemento poi davvero chiudo perché mi sto prendendo l'altro tempo l'ultimo elemento comunicativo interessante che però non riusciamo qui perché davvero è un mondo e quindi non riusciamo in maniera definita però mi piaceva lanciare l'idea è quella dei meme i meme in realtà come diciamo come elemento minimo di comunicazione nascono nel digitale ma oggi hanno assunto un potere comunicativo molto forte sono in qualche modo un'unità semantica cioè sono un'immagine che sia un'immagine diciamo facilmente riconoscibile perché è un'immagine tratta dall'insieme di immagini che costituiscono l'immaginario collettivo perché il suo potere sta nel fatto che il suo potere comunicativo sta nel fatto che immediatamente appena la guardiamo riconosciamo il contesto da cui viene estrapolata in qualche modo e poi la riutilizziamo e quindi la ricontestualizziamo totalmente dal punto di vista semantico usiamo quell'immagine per dire tutt'altro cioè la togliamo dalla sua dimensione semantica genetica e la mettiamo in un altro contesto per dire altro spesso comunque i meme sono accompagnati anche da da un testo quindi in qualche modo si recupera l'aspetto delle parole però la dimensione interessante è che perché funzionino sia necessario che ci sia questo riferimento immediato all'immaginario collettivo quindi è in qualche modo anche una forma di rafforzamento culturale perché un meme può funzionare in una certa cultura ma non in un'altra proprio perché culture diverse condividono immaginari diversi quindi quello che noi vediamo che ci dà subito un senso qui diciamo in occidente nella cultura occidentale magari non lo non lo fa non ha lo stesso potere la stessa funzione in un altro contesto culturale tutti voi conoscete i meme sono diventati una forma di comunicazione immediata ma anche nel suo come dire nel suo di spiegarsi in qualche modo anche quotidiano è una forma di narrazione complessa e spesso e volentieri è una contro contro narrazione come si dice il meme viene utilizzato per attraverso l'ironia chiaramente attraverso quello che è da sempre il potere della satira rispetto al potere cioè attraverso una forma di racconto che è diverso da quello diciamo più ufficiale istituzionale eccetera raccontare un'altra storia mettendo anche il ridicolo i protagonisti di quella storia facendolo però utilizzando le potenzialità digitali cioè prendo un frame di un'immagine la trasformo la ricontestualizza completamente legandomi a un senso a un universo di senso che chi guarda capisce immediatamente utilizzando poi l'ironia del testo ed è probabilmente oggi la forma più interessante di contro narrazione istituzionale e politica che possiamo avere ed è anche quella che più immediatamente coinvolge persone che non sono neanche interessate alla politica cioè spesso e volentieri i meme viaggiano nei social soprattutto vengono condivisi spesso e volentieri le persone che condividono un meme con contenuto politico non sono interessate alla politica però trovano divertente quella ricontestualizzazione trovano divertente quel passaggio e quindi in qualche modo contribuiscono al dibattito pubblico contribuiscono a creare un clima d'opinione pur essendo sostanzialmente disinteressate rispetto al tema specifico o al contesto politico specifico questo come capite crea molta confusione cioè se noi dobbiamo alla fine dire oggi che cos'è l'opinione pubblica che cos'è il clima d'opinione che tipo di ruolo hanno diciamo così le istituzioni intendo per istituzioni i leader politici partiti istituzioni rispetto a questa forma così come dire effervescente ma anche ingestibile in qualche modo di comunicazione che avviene attraverso i social chiaramente è tutto molto complesso però è anche una sfida interessante per capire dove stiamo andando e in tutto ciò le parole che potere mantengono rispetto a una dimensione invece di comunicazione che è sempre più una comunicazione appunto per immagini istantanee per simboli per qualcosa che sta per qualcos'altro un po' no? Niente mi fermo qui grazie grazie Chiara interessantissime due riflessioni ora aspetterebbe a me dire qualcosa ma insomma visto che l'intervento precedente è stato molto articolato e lungo prenderò pochi minuti scusate mi sono dilungato troppo no molto semplice quello che vorrei dire io l'idea è quella di come il diritto costituzionale abbia conosciuto un'invasione di termini di matrice anglosassone e come questi termini abbiano in qualche modo svolto un'operazione che partendo da una funzione olofrastica cioè hanno cercato di semplificare istituti complessi con termini semplici ne hanno però partendo dalla semplificazione prodotto una distorsione cioè attraverso un particolare linguaggio comunicativo quale peraltro faceva scena anche la professoressa Nesi prima quei termini impiegati in altri ordinamenti giuridici per altri istituti sono stati utilizzati per descrivere istituti che nella costituzione italiana l'ordinamento cittadino sono del tutto diversi questo al fine di suscitare delle emozioni chiamiamole così costituzionali o meglio emozioni politiche volete mettere che bello dire facciamo l'impeachment al presidente della repubblica perché condiziona la nomina di un ministro piuttosto che poniamo in stato d'accusa al presidente della repubblica davanti al Parlamento e al Comune deciderà poi la corte costituzionale integrata di 16 membri è meglio impeachment piuttosto che ragioniamo sui presidenti diretti diretti direttamente a suffraggio universale diretto no governatori che non c'entra niente ora vedremo e così via diciamo che c'è una distorsione complessiva del linguaggio costituzionale alla quale abbiamo assistito in maniera forse troppo silente in questi anni anche l'abuso del termine federalismo eccetera ma andiamo per ordine io ho scelto alcune parole così per condividere qualche minuto di riflessione con voi che hanno invaso il linguaggio politico istituzionale ma hanno in realtà cercato di veicolare contenuti costituzionali non presenti nel nostro ordinamento giuridico questa è la parte grave che io ritengo sia diciamo il risultato di un'attività diciamo non troppo responsabile di un pezzo del mondo delle comunicazioni e in particolare della comunicazione pubblica termine governatore come sapete i presidenti di regione dal 99 sono eletti direttamente dai cittadini assumono cioè un luogo di guida diretta capo dell'esecutivo come il sindaco nomi non revocano gli assessori cadono se il consiglio le sfiducia e si torna a votare per ambito gli organi bene li chiamiamo governatori cioè li chiamano governatori quando dico li chiamano dico anche atti ufficiali atti formali atti comunicati stampa piuttosto che articoli ad accademia perché ne rimetto e risalta la natura monocratica del potere rispetto a magari i presidenti precedenti che erano scelti dai consigli regionali senza suffragio universale di età erano molto deboli politicamente bene l'incredibile dell'incredibile cos'è? è che in realtà il termine governatore nel nostro paese è utilizzato per rappresentare il massimo del centralismo perché governatori erano coloro i quali svolgevano il ruolo di governatore provinciale prima del prefetto nell'ordinamento amministrativo quindi il simbolo del potere centrale governatore era il governatorato di Roma durante il fascismo al posto del potestà era il potestà di Roma quindi in realtà nel nostro ordinamento giuridico la parola governatore è associata a tutto ciò che è centralismo mentre viene utilizzata qui per definire una grande svolta federale sì certo si basa sulla traduzione americana ma negli Stati Uniti d'America il governatore come è definito il capo del governo dello Stato membro deriva questo termine dal governatore della Gran Bretagna Regno Unito il quale era un rappresentante del governo centrale che governava la colonia quindi è incredibile come un termine utilizzato per rappresentare il centralismo sul territorio diventa il termine per rappresentare l'autonomia politica di un soggetto lascio perdere le conseguenze di questo per cui i governatori vengono identificati come una specie di diciamo super premier territoriale con tutte le dinamiche che poi ne conseguono ma diciamo è un primo elemento ma il tema del regionalismo non è solo un tema di governatori ricordiamoci la parola devolution incredibile la devolution è un processo più che un istituto degli anni fine anni 90 durante i quali in Gran Bretagna si promuovono alcuni act alcune leggi su Galli Scozia Irlanda del Nord con le quali si costituiscono parlamenti territoriali competenti sostanzialmente con atti di natura neanche diciamo così rilevante con competenze in gran parte riducibili le nostre competenze regolamentari su a piccoli settori ma attenzione la devolution è così importante in Italia che quando nel 2006 5-6 il governo Berlusconi fa una riforma costituzionale viene nominata riforma sulla devolution peccato che la Gran Bretagna non è il simbolo del federalismo nel mondo ma è il simbolo dell'accentramento del Parlamento di Londra e quindi anche qui viene usato il termine di evoluzione per dire doppio competenze e territori usando un termine che diciamo rappresenta una rottura dello schema unitario eccezionale nel mondo nel mondo del Regno Unito ma il quale ci regala un'altra grande dramma linguistico che quello del Premier peraltro parola di origine francese e non diciamo inglese ma tenendoci sulla parola Premier il nostro Presidente del Consiglio come vi dico spesso a leggere non è un Premier non lo può essere non ha le competenze le funzioni e la legittimazione propria di un Premier perché? perché il Premier è un capo dell'esecutivo come il Cancelliere nomina, revoca, sceglie particolare il Regno Unito addirittura è il leader del partito maggioritario e si diventa Premier in quanto leader di quel partito da noi Premier i Presidenti del Consiglio spesso non sono rappresentanti del partito né segretario del partito ma addirittura tecnici o esterni pensiamo in questa fase in cui Premier è un non parlamentare come peraltro è stato già nel caso di Ciampi nel caso di Amato e nel caso di Renzi dire Premier che comporta? che mi immagino un Presidente del Consiglio in grado di gestire i ministri revogarli nominarli andare in giro facendo il capo in realtà è uno che ha la campanella in mano in Consiglio dei Ministri suona e mette ordine al dibattito che c'è nel Consiglio dei Ministri anche qui l'idea del Premier guardate caso si rafforza a livello comunicativo e distorce perché poi arriva il messaggio noi abbiamo non abbiamo governi eletti dal popolo perché usando la parola Premier si immagina un canale di gittimazione diretta invece sappiamo che ahimè dal 1948 i Presidenti del Consiglio non vengono eletti dai cittadini quindi l'aspettativa del Premier comporta quantomeno una legittimazione se non diretta fortemente connessa al voto popolare questa cosa non c'è e c'è una frustrazione democratica su poi diciamo cavalcano alcune idiozie in particolare poi alcuni fenomeni comunicativi che alcuni partiti populisti diciamo utilizzano anche a fini elettorali e poi c'è l'altra parola fantastica non scendo sulla parola leader perché qui si aprirebbe un mondo diciamo lasciamo perdere perché uso l'altra parola che piace tanto che riguarda il nostro Presidente della Repubblica sono due parole il veto e l'impeachment Allora la parola impeachment peraltro in alcuni social scritta male dal punto di vista linguistico cioè con errori fu evocata dall'ultimo quando il Presidente della Repubblica diciamo sollevò alcune perplessità così da notizie di stampa emerge sulla nomina di un ministro del primo governo Conte impeachment finisce facciamo l'impeachment eccetera ora va gliela a spiegare che non esiste l'impeachment nel nostro sistema costituzionale esiste la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica nei casi in cui commetta alto tradimento o attentato dalla Costituzione è troppo lunga per stare dentro una stringa di una diciamo televisiva in un regionamento ma l'impeachment non c'è cioè tu puoi non cacciare ma chiedere alla Corte Costituzionale di giudicare integrata di 16 membri il Parlamento e il Sottocomune può farlo qualora il Presidente commetta uno di questi due reati per commettere i quali ce ne vuole anche qui la politica la comunicazione hanno distorto il fenomeno e ovviamente anche qui l'onda populista si è attaccata dal processo di semplificazione diciamo la funzione lofrastica è troppo elegante diciamo di banalizzazione di semplificazione di distorsione dell'istituto giuridico come? Beh molto semplicemente facendo una cosa semplice invocando un istituto che non esiste nel nostro ordinamento giuridico e che non avrebbe potuto essere peraltro attuato utilizzato come nel caso della nomina di quel ministro perché è compito del Presidente della Repubblica nominare i ministri combinato disposto Premier che fa il capo e Presidente Impeachment avrebbe dovuto immaginare che la competenza nominare i ministri sia del Presidente del Consiglio ma ahimè è del Presidente della Repubblica che quindi siccome nomina un atto proprio valuta chi nomina punto perché nomina su proposta del Presidente del Consiglio e non è un atto diciamo senza nel quale la volontà presidenziale non riveli e poi c'è il veto ogni tanto c'è il Parlamento approva una legge a un partito non piace e semplifica dicendo ah Presidente metta il veto non esiste non esiste il veto esiste un istituto che il rinvio della legge peraltro anche dell'atto con forza di legge al Parlamento nel secondo caso al governo in caso il Presidente non voglia promulgarlo o emanarlo che però deve essere motivato perché il Presidente sostiene che quell'atto abbia dei profili di legittimità costituzionale abbastanza acclarati non può essere una scelta politica cioè non è il veto perché non condivido la legge è un rinvio al Parlamento perché la legge potrebbe avere aspetti incostituzionali no? il famoso Mattarella non firmare non è che il Presidente non firma il Presidente deve firmare se non firma è perché riveleva che c'è un vizio di legittimità non è che non firma perché non è d'accordo ecco il veto fa parte della costruzione di indirizzo politico in cui partecipa il Presidente degli Stati Uniti non fa parte del Presidente italiano che non partecipa all'indirizzo politico tentativo di distorsione anche qui devastante ora chiudo con una nota qui sono un po' le parole più abusate voi capite che sarebbe stato molto più difficile utilizzare termini tedeschi voi immaginate un giornalista italiano che deve comunicare al popolo e usa fast un bash verde no finisce la trasmissione nel frattempo cala l'audience queste parole hanno in questa semplificazione provato a instaurare nelle menti del corpo elettorale dei cittadini istituti non presenti nel diritto costituzionale perché gli istituti del diritto costituzionale sono complicati complessi come è complesso ogni sistema istituzionale che si fonda su pesi contrappesi limitazioni e controlli e quindi il tentativo di scardinare la complessità e il pluralismo costituzionale passa anche per la semplificazione di questi istituti finisco ci sono altre parole in realtà che nebbero analizzate ma più che parole si tratta di un modo di usare le parole molti istituti del diritto costituzione italiano sono utilizzati in maniera impropria per esempio non declinandoli cioè senza aggettivi noi sappiamo che esistono i referendum quante volte sentiamo a parlare di referendum senza la specificazione abrogativo costituzionale di modifica dei comuni consultivo ok referendum viene non aggettivato come non è aggettivata la parola decreto decreto legge decreto legislativo dpcm decreto del presidente della repubblica decreto interministeriale decreto di altri organi che adottano decreti questo è successo poi Pacini ce lo dirà in particolare sull'emergenza l'Italia ha scoperto cosa sono i dpcm perché hanno dovuto capire che sono distinti dai decreti legge e dai decreti legislativi e nonostante questo troviamo in giro ancora degli avvisi degli appelli dei cartelli per i negozi oppure nei luoghi con scritto norme sulla base del decreto legge in realtà di pcm perché si immagina che la parola decreto che viene dall'antica definizione del decretare del decidere del porre il diritto abbia una veste indifferenziata ma e chiudo c'è un profilo che lega queste esperienze che secondo me è che l'espressione italiana è diciamo il volto semplificato di un istituto complesso e quindi nel cercare la semplificazione comunicativa spesso distorciamo completamente il funzionamento del diritto costituzionale il pericolo qual è? che facciamo annoiare tutti ossia che diamo l'immagine di una costituzione che sia lenta macchinosa incomprensibile pur essendo la nostra costituzione qui rivenga la citazione finale della collega Nesi scritta in maniera semplice perché i costituenti avevano un paese tendenzialmente analfabeta diciamocelo con serenità la costituzione è scritta pensando a un paese in cui molta gente ancora firmava con la X se no ci prendiamo in giro e la costituzione è molto semplice come dovrebbe essere ogni costituzione e cerca di utilizzare parole anche diciamo volgari nel senso in proprio del termine di uso comune in certi casi perché sa di dover comunicare a un corpo sociale non più abituato alla costituzione ma abituato ai discorsi dal balcone di un leader di un duce a un impianto istituzionale emotivo e comunicativo quindi quando riposiziona il diritto e lo metta al centro della linea sociale lo deve rendere semplice altrimenti già diventa antipatico perché è complesso ora siccome non abbiamo il problema della fretta diciamo dal punto di vista istituzionale grazie a Dio ma abbiamo una fretta nelle relazioni sociali io credo che noi dobbiamo fare un lavoro che è quello di trovare termini nuovi in italiano che evitano la colonizzazione di linguistica straniera su termini che su concetti complessi non possiamo pensare di cambiare il diritto costituzionale per far sì che aderisca a termini semplificati inglesi ma dovremmo essere lo dico ai colleghi bravi a evitare insomma di esagerare con l'uso delle parole nel diritto costituzionale perché chiudo ho il timore che ciò che non è amato tramite le parole non sia poi amato dalla comunità grazie me la canto e me la suono nel senso che dopo di me devo dare la parola al collega Fabio Pacini che appunto si occuperà del tema del linguaggio giuridico nell'emergenza e che emergenza che stiamo vivendo grazie 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 buonasera e grazie a professoressa Nesi per la sua bellissima facini non ti sentiamo sì accenditi eh io ti sento Fabio Fabio mi sentite non ti sentiamo ora sì si sente si sente si sente si sente si sente dunque Alessandro mi senti? no non ti senti? no tu non lo senti è diverso sei tu Alessandro sì ok ora ti sento aveva abbassato il volume aveva abbassato il volume scusa classico perfetto grazie appunto grazie di nuovo alla professoressa Nesi e grazie a Chiara Moroni e Alessandro Sterpa per avermi diciamo coinvolto in questo bellissimo seminario è un tema come diceva Alessandro che mi che mi preme mi preme molto e mi prende molto insomma pur essendo di altra diciamo di altra branca disciplinare rispetto alla alla linguistica ma come diceva appunto Alessandro Sterpa prima non così non così distante non così distante proprio perché il giurista non può fare a meno realisticamente né per quanto riguarda vuole fare a meno di una costante e quanto più possibile profonda riflessione o almeno intensa riflessione sugli aspetti linguistici questo per una serie di motivi che sono diciamo abbastanza evidenti e abbastanza noti e dei quali cercherò di dare qualche piccolo assaggio in questi minuti che mi sono concessi mi scuso preventivamente se sarò sicuramente come dire non non sarà una trattazione organica né potrebbe esserlo e anzi al limite a tratti dell'aneddotico però ripeto mi interessa molto a partire da alcuni esempi che abbiamo tutti sperimentato sulla nostra pelle negli ultimi mesi provare a fare qualche considerazione di carattere più ampio proprio appunto sul rapporto fra lingua e diritto o meglio su cosa sottenda in termini giuridici l'utilizzo di una locuzione anziché di un'altra l'utilizzo di una parola anziché di un'altra mi ha fornito prima pochi istanti fa un assist perfetto Alessandro Sterpa con appunto l'utilizzo del decreto del presidente del consiglio dei ministri qui io credo che noi oggi abbiamo uno strumento per quanto mi riguarda interessantissimo che so essere privo diciamo di una valenza statistica perché non è non esprime un campione sicuramente significativo ma non un campione diciamo costruito come la statistica vorrebbe della popolazione però comunque non riesco a non pensare che non dia una certa immagine di cosa gli italiani si sono trovati davanti e che domande si sono fatte che è Google Trends lo strumento di Google abbastanza noto ma secondo me non ancora quanto meriterebbe di analisi delle ricerche su se stesso diciamo un'analisi in realtà che quella che viene offerta da Google non è particolarmente ritagliata non è perfetto è uno strumento però è uno strumento che secondo me ci aiuta moltissimo e quindi farò ricorso varie volte condivido la schermata decreto del presidente del consiglio dei ministri usato in forma estesa se noi vediamo negli ultimi 12 mesi manco a dirlo il picco dove sta sta esattamente in corrispondenza del primo dei dpcm a proposito del fatto che non è un strumento diciamo perfetto ai nostri fini qui non si tratta di numeri assoluti è fatto 100 il momento di picco il resto è proporzionale ma insomma dà appunto un'idea del picco del picco stesso ultimi 12 mesi divertente appunto se ci si balocca con la ricerca anche sugli anni precedenti interessante vedete questo negli ultimi 5 anni evidentemente non c'era un grande interesse ancora più interessante se lo facciamo agli ultimi 12 anni per cui scusate agli ultimi 16 anni e qui è ancora più interessante perché troviamo un primo picco all'inizio del 2004 che mi ha molto insospettito sono andato a documentarmi e cosa era successo che era stato utilizzato un dpcm un decreto del presidente del consiglio dei ministri per la faccio breve dettagliare che cosa dovessero fare praticamente tutte le categorie industriali a fini di sicurezza sul lavoro se detenevano certe sostanze e quindi è qualcosa che ha riguardato moltissime imprese e quindi ha riguardato moltissime persone e quindi ha generato questo primo picco diciamo quanto riguarda decreto del presidente del consiglio dei ministri che poi ritorna diciamo in sonno e riparte all'inizio della primavera di quest'anno peraltro così poi ritorno a un altro tipo di schermata è interessante perché questa è la forma estesa se noi utilizziamo invece appunto la versione come dire contratta allora noi vediamo che invece dpcm mi fa sì un primo picchetto all'inizio ma dpcm come tale mi esplode a novembre quasi a dire abbiamo preso confidenza con la con la formula e anche utilizzando i puntini è un pochino più frastagliato ma comunque troviamo i due i due picchi ripeto perdonatemi la i rilievi al limite dell'aneddotica ma questo ci introduce e anzi ci porta direttamente in mezzo alla prima cosa che tengo a puntualizzare cioè il decreto del presidente del consiglio dei ministri è strumento che non ha conosciuto sempre una particolare fortuna dal punto di vista del suo utilizzo ma che per dare un'idea in diversi sono andato a consultarli in diversi manuali di diritto pubblico degli anni scorsi o non è citato o è menzionato in maniera assolutamente cursoria ma perché perché anche qui dunque l'utilizzo di questa è un tutt'uno ora questo è uno spunto che metto nel nel dibattito diciamo è un tutt'uno l'utilizzo per noi in questo caso della della locuzione e l'utilizzo di un certo strumento volto a trasformare la realtà stessa e dunque gli italiani si sono trovati scusatemi l'espressione gli italiani permetteva i consociati si sono trovati di fronte a questa serie di parole una dietro l'altra alla quale non attribuivano un senso unipope chiaro immediato si sono precipitati a cercarla su google e hanno scoperto e qui torna invece il giurista hanno scoperto uno strumento normativo uno strumento normativo lo faccio brevissima perché altrimenti sarebbe tutto ci sarebbe molto da dire su quello che nasce viene concepito e solitamente viene usato con veniva usato con una diciamo caratura più interna organizzativa alla stessa presidenza del consiglio o comunque una attuazione di atti di rango primario ovvero leggi decreti legislativi decreti legge che in qualche modo hanno bisogno di essere specificati tramite atti secondari e questo è un atto secondario ma nemmeno il principale che invece è il regolamento per gli studenti è il regolamento ma il DPCM peraltro in un rapporto assai complesso con la stessa fonte regolamentare insomma non aveva mai conosciuto un utilizzo così ampio permettetemi nella società non aveva mai riguardato salvo forse quel momento nel 2004 di cui vi ho detto ma comunque niente di paragonabile non aveva mai riguardato così tante persone non era mai arrivato agli occhi e alle orecchie visto appunto che abbiamo parlato anche di questi aspetti proprio strettamente comunicativi di così tante persone questo è interessantissimo è il giurista che lo guarda per l'appunto dal punto di vista dello strumento normativo non può ignorare questo pena è stato accennato già in diversi interventi pena una sorta di scollamento tra quello che è lo strumento giuridico e quella che è la sua percezione e quindi è stata necessaria e forse in buona parte è visto che si continua lo diceva appunto prima Alessandro Sterpa si continuano a sentire si continuano a sentire equivoci eufemisticamente sul punto sarebbe stata e sarebbe necessaria una maggiore attività pedagogica anche dal punto di vista della comunicazione istituzionale non tanto e non solo sulla persuasione sulle singole misure ma anche ma forse questo è un sogno acquisizionalisti anche proprio sull'utilizzo di quello strumento che e chiudo su questo ricordiamo non è diciamo in sé autosufficiente per fare quello che sta facendo per limitare la libertà di spostamenti eccetera ma a sua volta in un'ottica che chiamiamo appunto di gerarchia delle fonti e di rapporto con la riserva di legge è un qualcosa che va a specificare delle misure che sono state fatte con un atto superiore superiore nel senso che è un atto che ha il rango della legge e che se non immediatamente parlando di un decreto legge però successivamente è stato esaminato dal Parlamento sede della rappresentanza in un'ottica di sovranità popolare quindi è un continuo questo primissimo esempio è di come sia un continuo rimbalzare dal momento giuridico al momento linguistico e viceversa tanto da considerarli sostanzialmente indistinguibili quindi il decreto del Presidente del Consiglio il DPCM è tra noi in maniera inedita con una intensità diciamo quanto a misure e soprattutto direi a fini comunicativi con un novero di destinatari inedito da qui appunto lo smarrimento anche di molti di fronte allo strumento e linguisticamente a questa locuzione che lo designa questo era il primo aspetto secondo aspetto cosa c'è dentro il DPCM anche qui io approfitto di questi pochi minuti per due esempi per la verità entrambi assai noti mi scuso della ormai quasi banalità di questi esempi ma spero di poterli contestualizzare pur rapidamente in maniera meno trita rispetto a quanto si è sentito su questi due li anticipo subito congiunti e fortemente raccomandato esempi notissimi e mi perdonerete lo scarso sforzo di fantasia però c'è dietro un mondo a entrambi per il giurista sicuramente anche per il linguista parlo per nell'ambito in cui mi sento un pochino più a casa congiunti il DPCM per l'appunto 26 aprile 2020 è quello che abbiamo più amato perché è quello che ha disciplinato diciamo le riaperture dopo il lockdown primaverile si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il diverso di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro eccetera eccetera e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie congiunti anche qui risparmio di nuovo la condivisione dello schermo ma non avrete problemi a credermi picco su Google Trends assoluto di sempre qui invece non c'è niente a memoria non di uomo ma di server di Google di un'esplosione di ricerche così su congiunti allora chiunque avesse la sventura di avere una laurea in giurisprudenza tempestato di richieste con ogni mezzo sulla definizione di congiunti e noi disperati e frustrati perché? perché se cerchiamo il diritto positivo nel senso di us positum il diritto scritto la componente più marcatamente linguistica troviamo risposte tutto sommato insoddisfacenti e anche questo è noto troviamo risposte insoddisfacenti in che senso? nel senso che di risparmio sarebbe lunga ci sono varie occorrenze della parola congiunti sia nel codice penale sia nel codice civile sia nella giurisprudenza ma se noi guardiamo appunto il diritto positivo lì si usa congiunti essenzialmente per denotare comunque delle parentele o delle affinità affini come parenti della moglie per intendersi del marito comunque giuridicamente diciamo definiti poi è un campo un pochino più ampio un pochino più ampio anche a conviventi in alcuni casi però cosa non troviamo nel diritto positivo che si aspettava perché c'è anche un aspetto di scusate il besticcio di aspettativa del del soggetto che riceve la comunicazione si aspettava un allentamento alle relazioni informali a tutto quel che è quell'area affettiva che nessuno di noi deve è chiamato a motivare né a spiegare né a definire ma che costituisce una buona parte delle nostre interazioni e quello ci si aspettava dopo mesi in cui si era per l'appunto ristretto il bacino di interazione si aspettava quello e si è trovato congiunti un termine che se si guarda ripeto al diritto scritto in realtà riprendeva ricomprende comunque rapporti diciamo formalizzati e allora infatti è stata l'interpretazione successiva dello stesso governo nelle frequently asked questions nelle PAC sul sito del governo i giorni successivi immediatamente successivi i coniugi i partner conviventi i partner delle unioni civili le persone che sono legate cito da uno stabile legame affettivo aperta parentesi fidanzati non conviventi chiusa parentesi i parenti fino al sesto grado gli affini fino al quarto grado quindi è stata una interpretazione sostanzialmente nuova nell'ordinamento almeno quanto a sua formalizzazione proprio per includere anche rapporti non formalizzati come quelli per l'appunto delle persone legate da uno stabile legame affettivo ma volutamente non si è inserito l'amico o men che meno che so le persone con le quali ripeto il rapporto non è formalizzato o formalizzabile allora stabile legame affettivo e qui io ero molto indeciso se citarlo o meno però visto che prima la professoressa Moroni ha fatto una bellissima presentazione del meme dell'idea di meme e di quello che vuol dire oggi dal punto di vista comunicativo il meme mi viene in mente ma lo citerò solo in versione edulcorata un bellissimo meme delle frasi di Osho in cui appunto una persona viene fermata dalla polizia che nel romanesco che è tipico di quei meme che sono noti gli chiede ma insomma a questa qui li vuoi bene davvero oppure hai solo altri film versione edulcorata quindi a parte gli scherzi a parte il meme che però ha una sua appunto portata comunicativa che c'è stata prima descritta in maniera magistrale è proprio questo il punto cioè è il diritto il tipo capitemi bene il tipo di diritto della nostra forma di stato che non ha per fortuna non ha gli strumenti perché solitamente non ha la volontà di intervenire a formalizzare tutte le interazioni che possiamo avere sarebbe un'altra forma di stato fino ad arrivare alla somma no degenerazione dello stato etico non fa questo di solito lo stato e non ha quindi gli strumenti non ha e qui arriviamo le parole per farlo e quindi qui c'è una tensione tra da un lato la necessità di confinare i rapporti al formalizzato perché il rapporto formalizzato per l'appunto me li chiude me li ingabbia me li delimita c'è questa volontà palese ma dall'altro c'è un'assenza di strumenti e un'assenza di formamentis diciamo sul fare questo e dunque cosa si fa e chiudo sul punto dei congiunti si utilizza uno una parola mi sento di dire volutamente ambigua e poi se ne dà l'interpretazione se ne fornisce un'interpretazione di un momento anche di poco ma successivo e a quel modo si ricontestualizza e si rimodula anzi non ri si modula il grado di pervasività della regolazione quindi è un elemento è stato un momento che appunto è passato quasi a tratti drammatico però questo dei congiunti è passato anche per la satira ma per il giurista veramente importante da questo punto di vista che ho appena detto e similmente a questo e infatti vado velocemente perché il concetto è simile l'altro caso quello del fortemente raccomandato DPCM del 24 ottobre specifica come sia fortemente raccomandato non ricevere persone non conviventi ed altri casi fortemente raccomandato anche qui vi risparmio di nuovo la condivisione P su Google Trends fortemente raccomandato fortemente raccomandato il fortemente raccomandato cosa ci cosa vuol dire e qui ce l'ha spiegato direttamente in conferenza stampa il presidente del consiglio conferenza stampa il 3 dicembre verbatim in un sistema liberal democratico non possiamo entrare in casa delle persone possiamo limitarci a forte raccomandazione ma chiediamo a tutti di rispettarla e quindi di nuovo qui cos'è è un utilizzo di parole che hanno dietro una forma di stato mi viene da dire quella che appunto il presidente del consiglio chiama un sistema liberal democratico quindi il rapporto tra state e cittadini noi non possiamo fare una formalizzazione non possiamo mandare appunto la polizia e i carabinieri nelle case non possiamo e non vogliamo non sarebbe coerente appunto con il nostro sistema con la nostra formalizzazione allora il diritto qui cosa si fa? si fa per l'appunto raccomandazione quindi attinge mi verrebbe da dire ma anche qui è un altro mestiere forse più del filosofo attinge ad un altro registro per quanto riguarda la lingua ma attinge ad un altro armamentario appunto concettuale più quello mi viene da dire dell'etica se non della morale allora questi due esempi quindi molto noti che ci hanno magari fatto arrabbiare o magari fatto sorridere però sono particolarmente significativi per il giurista non solo dell'uso del linguaggio ma dell'uso dei suoi strumenti e dell'uso del non uso degli strumenti che ha a disposizione chiudo con un'ultima cosa invece che mi sta anche questa molto a cuore una parola che non c'è invece ma che molti pensano che ci sia e lo testimonia di nuovo Google Trends coprifuoco coprifuoco non ricorre nell'ordinamento positivo italiano vigente ho controllato ricorre talora nella giurisprudenza ma nella giurisprudenza sul diniego della protezione internazionale per cui si dice c'era o non c'era il coprifuoco nell'area dalla quale proviene il soggetto per dire c'era o non c'era uno stato di ostilità di conflittualità estremo quindi solo lista e non non c'è nei DPCN proprio fuoco non c'è assolutamente però c'è c'è stato fin dall'inizio nella comunicazione istituzionale scusate non nella comunicazione istituzionale nella comunicazione giornalistica e poi e poi e con questo chiudo colpo di scena mentre è da un po' che sto seguendo questi aspetti e quindi quando è iniziato a pensare a questo intervento non c'era questa occorrenza della quale sto per dire ma invece poi colpo di scena si è manifestato anche in quella che non so se possiamo definire comunicazione istituzionale sicuramente è un documento che ha una sua caratura ufficiale cioè in ben due circolari del ministero dell'interno in particolare in particolare già nella circolare del 7 novembre numero 15.350 si dice si spiega la limitazione degli spostamenti dalle 22 alle 5 del mattino dicendo salvo che nelle ore del cosiddetto coprifuoco tra virgolette quindi in realtà coprifuoco non è nel dpcm ma è entrato lato senso dentro a comunicazioni ufficiali tramite circolari del ministero dell'interno che sono atti diciamo interpretativi quindi questo è interessante perché è interessante a coprifuoco il fatto che non ci sia o che venga usato o che venga usato in sede giornalistica perché coprifuoco mi porta con sé tutto è proprio il caso di dirlo un armamentario di metafori belliche che sono assai trite e assai sentite in questa pandemia e che ma qui mi fermo anche perché ripeto questo non è compito il giudista ma ci sono persone ben più autorevoli di me qui per dirlo mi porta tutto a pensare a fare una serie di associazioni di concetti bellici di ostilità eccetera che in molti casi mi potrebbero portare a sdoganare certi concetti che non sono proprio di questa di questo contesto ed anzi veicolare qualcosa qualche messaggio che personalmente non mi sento neppure di condividere o almeno bene che vada di fare un po' di confusione concettuale dunque fra quello che c'è quello che non c'è ma si pensa che ci sia un'emergenza anche piena di parole parole nuove parole non sempre accettabili grazie 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 fabio davvero interessanti due parole non dico niente per evitare insomma poi di dire cose anche spiacevoli perché sono molto su questi termini che ho usato ho una mia lettura molto del lavoro normativo è stato delegato alla comunicazione in questa fase cioè parole usate dalla comunicazione che non stanno negli atti normativi decisioni prese con testi normativi che erano gli unici legittimi possibili ma non abbastanza stringenti l'uso delle immagini dei servizi delle parole della comunicazione per mettere alzare il livello dell'elerta del paese dico solo questo e mi taccio perché Luigi sta aspettando per scalpita per dire alcune cose fondamentali ragazzi scusate siamo andati un po' lunghi quindi chiederei a tutti un po' di capacità di sintesi scusate perché la colpa della lunghezza è mia prego Luigi le parole della democrazia Luigi peraltro autore di un bellissimo libro di Rubettino che ora verrà tradotto negli Stati Uniti e che adesso io ostenterò mentre lui parlerà grazie 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 Alessandro anche per questa attività promozionale che non era prevista ringrazio anche io professore Estanesi per il suo intervento e tutti e coloro che mi hanno preceduto quindi Chiara Alessandro e Fabio sono tutti molto interessanti e cercherò più o meno di collegarmi a tutti grazie sì grazie intanto mi scuso per lo sfondo sono a casa dei miei la stanza dove prende meglio è una specie di stanza dove c'è di tutto c'è racchette a tennis quindi diciamo non è proprio il massimo è funzionale alla connessione quindi capirete allora le parole della democrazia cercherò di essere veramente molto breve di solito chi dice così va a lungo quindi spero di non smentirmi in questo caso allora comincerei proprio da democrazia da proprio due due pillole perché c'è stato un tentativo un po' di decenni fa da parte di alcuni politologi in particolar modo Robert Dole che era un professore di Yale ma in Italia anche di Giovanni Sartori di abbandonare il termine democrazia cioè di non utilizzarlo almeno nel linguaggio scientifico per non confonderlo con la democrazia degli antichi cioè l'idea era quando si parla di democrazia si pensa alla democrazia di Pericle per intenderci quella democrazia è irreplicabile o almeno loro la pensavano così anch'io la penso così per tante ragioni adottiamo il termine poliarchia che era un termine coniato proprio da Robert Dole che era un termine più attento al pluralismo al liberalismo appunto poliarchia inteso proprio come società aperta direbbe Popper come società plurale poi c'era il problema comunque definitorio di democrazia ci sono tantissime definizioni ma la madre delle dicotomie è democrazia procedurale verso democrazia sostanziale e anche lì ci si interroga da una vita ci sono i proceduralisti sostanzialisti e poi c'è stato un ulteriore problema sempre nel linguaggio scientifico la democrazia con aggettivi così era il titolo di un saggio di fine anni 90 cioè il fatto che siccome il linguaggio scientifico deve essere un linguaggio preciso se io dico appunto coronavirus disease quella è punto se io dico democrazia in realtà no nel senso che i casi che rientrano sotto democrazia possono essere a seconda delle interpretazioni tantissime o pochissime a seconda della scala di astrazione come la chiamava Sartori a un certo punto nella fine degli anni 90 uscì un saggio che aveva ricostruito in letteratura tutti i casi di democrazia con aggettivi cioè democrazia totalitaria addirittura c'era chi la definia così in alcune democrazie democrazie liberale e recentemente ne avevano contati 67 mi pare quindi diciamo un termine molto poco definito lo chiamo in causa perché recentemente va di moda invece il termine democrazie illiberali no? anche per via di un libro di Yasha Munch del 2018 Popolo versus democrazia ma in generale anche nel dibattito giornalistico si è utilizzato questo termine democrazia liberale pensando all'Ungheria pensando alla Polonia pensando in qualche modo a Trump o agli effetti possibili diciamo del Trumpismo eccetera che se ci pensiamo e non è l'unico tra le democrazie con aggettivi è un ossimoro perché la democrazia per come la intendiamo noi è una democrazia liberale cioè che si basa sul liberalismo politico non sul liberismo economico cioè sui controlli del potere appunto sul bilanciamento dei poteri sulla rule of law eccetera eccetera quindi la democrazia liberale in realtà non potrebbe esistere o comunque non sarebbe una democrazia però siccome negli anni recenti l'abbiamo visto non solo in Italia si è fatto molto come dire riferimento al potere del numero piuttosto che al potere delle regole allora questo scontro che appunto Popolo versus democrazia ha fatto sì che si coniasse anche questa formula cioè ci sono forze politiche tendenzialmente etichettate come populistiche che si presentano come iperdemocratiche cioè il popolo siamo noi e il popolo vota noi e noi siamo i migliori rappresentanti del popolo quindi chiunque non è eletto dal popolo per esempio non è democratico e ora abbiamo visto tante critiche da Mattarella in giù passando per il presidente dell'Inps passando per tribunali passando per la commissione europea chi li ha eletti chi li ha eletto Tizio chi li ha eletto Caio questo è un chiaro come dire una chiara deriva da democrazia liberale cioè quello per cui appunto la democrazia non è il governo delle regole ma è il governo del consenso popolare ok ora questa è la sola premessa a cui volevo agganciarmi per dire che tra le parole della democrazia uno dei diciamo degli ambiti problematici è proprio legato alla parola democrazia però entriamo nelle nostre democrazie io ho provato a immaginare cinque tendenze legate alle parole nelle nostre democrazie che le possiamo definire così parole che spariscono e qui diciamo non aggiungo molto a quello che ha detto Chiara cioè le parole sono sempre più rimpiazzate dalle immagini sono sempre più rimpiazzate dagli acronimi sono sempre più rimpiazzate io ricordo c'è un libro di eh Turk che si intitola La società è citata mi pare che sia lì questo passaggio in cui lui a un certo punto diceva che intorno alla prima guerra mondiale già ehm un po' in tutta Europa ci si lamentava dei titoli a effetto dei giornali e dei titoli sempre più sintetici dei giornali e diceva tra un po' anzi diceva alla prossima si diceva in quegli anni alla prossima guerra mondiale i giornali titoleranno semplicemente con una grande G furia di sintetizzare il linguaggio e più o meno insomma ci stiamo arrivando e noi spesso lo sintetizziamo appunto con le immagini come ha già anticipato Chiara e questo ovviamente fa sparire per certi versi proprio le parole ma oltre a sparire le parole e quindi ad aprire il fronte il fianco alle immagini ma lì potremmo aprire tanti fronti le foto opportunity i cosiddetti pseudo eventi cioè eventi creati a favore di telecamera in cui appunto le parole contano poco o niente quello che conta è l'evento in sé ma le parole si impoveriscono anche anche questo Chiara l'ha detto c'è un libro recente di Mark Thompson appunto si intitola la fine del dibattito del linguaggio pubblico del linguaggio pubblico credo che dice proprio da uomo dei media dei media appunto professionistici della stampa noi abbiamo rovinato proprio tecnicamente il linguaggio l'abbiamo talmente tanto impoverito che siccome dal linguaggio poi derivano i pensieri anche i pensieri si sono impoveriti e quindi di conseguenza il dibattito pubblico è diventato per certi versi penoso ecco perché questo è avvenuto perché le parole hanno seguito la media logic quindi appunto la logica dei media e quindi sono parole che da un lato tendono a emozionare e dall'altro tendono a concretizzare i concetti cioè questo diceva molto bene proprio Sartori in Ovidens quando diceva la televisione è fortissima e batte tutti gli altri media proprio perché è basata sull'immagine quindi trasforma in immagine qualunque concetto complesso questo però lo puoi fare in alcuni ambiti bene nell'ambito della politica o del diritto è complicato perché sono ambiti in cui le parole spesso sono concetti astratti democrazia è un concetto astratto partito è un concetto astratto stato è un concetto astratto libertà giustizia tutto questo magistratura sono strutture sono appunto astrazioni e allora se i media tendono a trasformare tutto in immagine tu come trasformi in un'immagine giustizia come trasformi in un'immagine libertà come trasformi in un'immagine premierato penso in mezzo ai concetti che ha citato prima Alessandro non ci riesce allora pian piano questi termini spariscono vengono trivializzati vengono in qualche modo violentati come abbiamo visto proprio nell'intervento di Alessandro acquisiscono altri significati e questo appunto è legato alla logica dei media dei media elettronici prima e digitali oggi quindi parole che spariscono parole che si impoveriscono parole che dividono perché noi siamo nel pieno di un scenario di ampia polarizzazione non ideologica come era nel novecento più una polarizzazione affettiva c'è stata anche questa divisione in letteratura recentemente cioè non è tanto un credere fortemente in qualcosa e quindi io mi scaglio contro chi crede in qualcos'altro è qualcosa di ancora più psicologico ed emotivo e quindi fuori dai credi stabili che erano infatti tipici di un'altra epoca è legato più a micro narrazioni individuali e a questioni diciamo appunto più psicologiche che ideologiche mettiamola così e anche qui i media contano i media digitali in particolar modo perché come è noto le camere di risonanza le camere dell'eco la bolla di filtri cioè l'algoritm bias come l'algoritm bias come chiamano negli Stati Uniti fa sì che appunto per il consumatore il modello di business dei media digitali è costruito per i consumatori il consumatore ha un modello ideale in cui gli viene offerto costantemente tutto quello che a lui piace e quindi perde poco tempo e muove l'economia e consuma e quindi fa acquisti tutto questo però non è funzionale al cittadino quindi c'è un consumatore in qualche modo si sostituisce al cittadino il cittadino se si chiude nella bolla non vede i punti di vista altrui è rafforzato dai numeri quindi crede che la sua opinione sia fortissima tutti la pensano come lui nel mondo che lui vede e questo ovviamente genera chiaramente una forte polarizzazione perché ognuno pensa non più di avere un'opinione ma di detenere la verità da cui appunto anche il concetto di postverità parole che promettono questo diciamo c'è sempre stato in politica però la propaganda lo sappiamo però ci sono delle chicche secondo me recenti allora perché dico c'è sempre stato Machiavelli diceva governare e far credere e quindi basterebbe citare quello per dire appunto che la propaganda ha sempre puntato a questo Napoleone diceva non conta ciò che è vero conta ciò che la gente crede sia vero ok ora tutto questo però se da un lato c'è sempre stato mai come oggi è esplosivo al punto tale che noi viviamo in qualche modo una politica a tempo differito la chiamo io cioè l'effetto annuncio crea la realtà nelle nostre teste e nel caso della crisi l'abbiamo visto quindi io annuncio un decreto e la gente va in stazione nel senso che il decreto sia stato approvato pubblicato eccetera oppure al contrario posso creare appunto aspettative positive o negative chiaramente in base in base al decreto quella era un'aspettativa negativa mi stai chiudendo dentro lo stai annunciando io la trasformo in realtà e vado in stazione oppure annuncio che il vaccino sarà pronto a dicembre crea aspettative positive infatti nella comunicazione di crisi non si dovrebbe annunciare nell'uno o nell'altro da manuale di comunicazione di crisi o di emergenza tu dovresti dire solo le cose di cui sei certo perché ogni altra cosa crea aspettative o positive o negative e fa il caos diciamo nell'opinione pubblica ma in generale noi viviamo veramente una politica a tempo differito mi ricordo che a fine governo Renzi c'erano ancora la metà dei decreti attuativi del governo Monti da approvare in mezzo c'era stato il governo Letta e tre anni di Renzi ok il decreto salvointese che cos'è se non un decreto virtuale c'è un decreto che deve essere ancora approvato dal governo e dal Parlamento ma nel momento in cui viene annunciato genera effetti reali ok quindi il virtuale diventa reale il reale è talmente posticipato nel tempo che diventa virtuale e quindi in qualche modo noi viviamo questa politica appunto a due livelli totalmente sfasata nel tempo che ha anche una serie di attori e di logiche diversi tra loro ultimo punto parole che emozionano ma anche parole che si dimenticano presto cioè Alessandro prima col caso dell'impeachment mi ha ricordato anzi ha fatto proprio l'esempio che adesso io diciamo confezionerò proprio con i protagonisti Di Maio 28 maggio 2018 mi pare fosse quello il giorno disse proprio questa frase siamo pronti a collaborare col presidente della Repubblica perché purtroppo l'impeachment non è più sul tavolo quindi nella stessa frase c'è una contraddizione totale qui si arriva proprio al newspeak alla neolingua orwelliana cioè tu riesci a dire una cosa è l'esatto contrario nella stessa affermazione e quella cosa non fa né caldo né freddo al suo popolo ok ma povero Di Maio ad agosto del 2019 tutti hanno fatto una un testa coda tranne chi non ne aveva bisogno penso fratelli d'Italia ma insomma dal momento in cui Salvini stacca la spina al governo c'è stato una testa coda di posizioni politiche totale la prima la sua che la stacca e poi chiede a Di Maio di tornare insieme Conte che il 14 agosto come dire vomita di tutto su Salvini come se non fossero mai stati al governo insieme ed erano al governo fino al giorno prima Di Maio mai col partito di Bibiano pronto a governare col partito di Bibiano Zingaretti mai al governo di Cinque Stelle piuttosto andiamo al voto e vanno al governo insieme e Renzi idem con Cinque Stelle quindi in pratica abbiamo visto plasticamente come curiosamente o paradossalmente se vogliamo nella società della comunicazione le parole non contano è paradossale o contano talmente poco da durare niente perché appunto sono attivatori emotivi ma in quel momento come dire quando le emozioni cambiano in qualche modo le parole perdono anche per certi versi di importanza ed è molto legato appunto alla transizione verso invece la società dell'immagine perché è vero che siamo nella società della comunicazione ma siamo anche nella società dell'immagine e quindi se l'immagine vale mille parole è anche giusto e quindi meno paradossale che l'immagine domini appunto sulle parole chiudo con questa domanda perché appunto che fine faranno le parole in una società in cui da un lato eh come dire ci siamo resti conto di questi problemi per esempio si cerca di regolare le fake news si cerca di tutelare la privacy no per il caso Cambridge Analytica Zuckerberg interrogato da Mezzomondo eccetera dall'altro è di questi giorni un rapporto della Ericsson che dice che andiamo verso l'internet dei sensi e in quel rapporto si dice che da qui al 2030 noi potremmo addirittura avere dei dispositivi digitali per cui se noi assaggiamo una cosa a quella cosa possiamo dargli il sapore che vogliamo ok quindi una totale manipolazione alterazione della realtà ed è già in corso oggi per esempio il selfie surgery cioè la chirurgia del selfie che cos'è la chirurgia del selfie gente che posta una propria immagine un proprio selfie sui social la modifica ovviamente con i filtri di Instagram gli fa piace quel risultato va dal chirurgo che dice voglio essere così è narciso allo stato puro proprio cioè confondere la propria immagine con la propria identità io voglio essere come la mia immagine ok ecco in questo scenario chiaramente difendere le parole sarà sempre più complicato grazie mi fermo qui grazie Luigi complimenti molto bravo grazie Alessandro per fare l'abbro ci vuole il seme nel logismo il tuo titolo che è più articolato più sì grazie a voi intanto Alessandro Sterpa e Chiara Moroni per questo bell'incontro e grazie naturalmente Anna Lissanesi per la bellissima relazione che ci offre tanti spunti oltre che anche ai colleghi che hanno parlato a seguire il mio intervento nella sostanza sarà una spiegazione del mio titolo che se vi ha incuriosito mi fa piacere e quindi partirò proprio dalla spiegazione di questo titolo forse alcuni l'avranno riconosciuto per fare l'albero ci vuole il seme è il verso di una famosa canzone di Sergio Indrigo pubblicata nel 1974 è una canzone appunto che diciamo io ricordo dalla mia infanzia e va detto con il testo di Gianni Rodari quindi un autore particolarmente intelligente e arguto che cosa dice questa canzone ve ne leggo una piccola parte per capire le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare dopo questa piccola introduzione appunto si inizia con questa serie di affermazioni per fare un tavolo ci vuole il legno per fare il legno ci vuole l'albero per fare l'albero ci vuole il seme per fare il seme ci vuole il frutto per fare il frutto ci vuole il fiore al termine appunto di questo ciclo così bello Endrigo e Rodari appunto pongono il fiore tanto poi da concludere alla fine appunto di questa canzone con per fare tutto ci vuole un fiore un'immagine molto bella che appunto in questo ciclo così complesso ci fa vedere come tutto abbia poi origine da un fiore da un semplice fiore io ho voluto porre al centro della riflessione perché questo ci dà l'occasione di parlare di una parola quindi un piccolo contributo in questa bella giornata che pone al centro la riflessione sulle parole anche laddove le parole come abbiamo visto nelle ultime relazioni sono sempre più insidiate e messe in difficoltà da immagini che cercano di prenderne il posto insomma di sostituire anche di semplificare a volte ho scelto di parlare del seme più che del fiore perché appunto il fortunato neologismo di cui vorrei parlare contro cui provocatoriamente vorrei parlare è una parola che negli ultimi mesi abbiamo sentito tantissime volte se facessimo ricorso come ha fatto Fabio Pacini a Google Trends insomma troveremmo che a partire da marzo in ambito accademico ma più in generale nel mondo legato all'istruzione alla formazione abbiamo sentito parlare tantissime volte anche oggi di webinar questa parola appunto è la parola su cui vorrei fare qualche riflessione qualche riflessione che quindi diciamo avrà un carattere molto particolare quindi sperando che poi da questo particolare si possa trarre qualche così riflessione di carattere generale webinar naturalmente è una parola del nostro millennio non potrebbe essere altrimenti si tratta di un composto appunto web con il suffisso inar da che cosa nasce questa parola che va precisato è registrata in tutti i dizionari più accreditati citava prima Anna Lissanesi quindi è una parola che significa semplicemente un seminario sul web naturalmente inutile dire che come dire questo il seminario sul web ci dà oggi in questi tempi delle possibilità straordinarie e ci ha dato l'opportunità in tutti questi mesi di incontrarci comunque nonostante questa situazione pandemica complessa approfitto qui per fare una piccola parentesi per dire che comunque anche se diciamo è bello incontrarsi così questo ci dà l'opportunità di stare insieme e di riflettere su tanti aspetti quanto sarebbe più bello potersi incontrare in presenza insomma mi piace sottolineare questo aspetto perché se è vero che il web ci dà degli strumenti fondamentali anche per rimanere in contatto oppure per entrare in contatto con persone e mondi lontani insomma sarebbe stato tanto più bello oggi potersi incontrare magari nella cornice dell'Università della Tuscia ma torniamo a webinar quindi parola usatissima negli ultimi mesi parola che appunto come dicevo indica un seminario sul web seminario è parola invece antichissima quindi qui possiamo vedere a confronto e direi anche a conflitto antico e nuovo devo dire che appunto io pur essendo un latinista e un filologo non sono assolutamente un elogiatore del tempo andato quindi quello che i latini chiamavano il laudato temporis acti quindi non sto facendo una difesa d'ufficio dell'antico quello che qui vorrei mettere a confronto è una parola piena di senso con una parola che invece non lo è perché dico questo perché la parola seminario appunto è una parola antica viene dal latino seminarium significa nel suo significato letterale vivaglio quindi un luogo dove vengono seminati i semi curati accuditi questi semi frutteranno appunto piante alberi fiori soprattutto anche l'altro aspetto interessante queste piante fiori frutti verranno poi trapiantati altrove cioè un seminario è il il luogo dove tutto questo appunto viene tenuto temporaneamente per poi essere spostato altrove naturalmente questo termine seminarium già in latino possiede un un significato un'accezione traslata quindi appunto qualcosa che può fruttare tanto in senso positivo quanto in senso negativo non è mia intenzione poi fare la storia di questa parola anche se sarebbe interessante naturalmente tutti noi abbiamo presente appunto l'accezione di seminario religiosa quindi luogo di formazione culturale spirituale e tutti noi appunto dal nostro periodo di formazione fino a poco tempo fa abbiamo parlato e frequentato seminari universitari allora perché come dire vorrei dire qualche parola contro il webinar perché se il seminario è un luogo dove vengono riposti i semi accuditi innaffiati e curati perché poi poi frutti che cos'è invece il webinar è qualcosa che pone al centro lo strumento il web il web non lo possiamo porre sullo stesso piano dei semi quindi se seminarium è una parola io credo seminario insomma seminar anche in inglese naturalmente qui non si tratta di una battaglia contro i foresterismi se questa questa parola è una parola così ricca webinar è quasi una parola non sense cioè è un suffisso di un luogo in latino appunto oltre al seminarium e ne esistono tanti altri che vengono dal mondo agricolo come pomarium il frutteto quindi si tratta di luoghi all'interno dei quali si trovano dei frutti o altro il webinar quindi sarebbe un luogo all'interno del quale c'è un altro luogo non fisico uno spazio nello spazio quindi è di per sé un termine che io credo sia davvero davvero brutto e forse se si è affermato così tanto è perché come dire in qualche modo siamo stati meno attenti alla sostanza delle parole qui diciamo mi piace ricogliarmi a quanto diceva nella sua relazione a Annalisa Nessi quando ha parlato più volte oltre che del carattere seminariale aperto che insomma aveva piacere che avesse la sua lezione e credo che sia uno degli aspetti più belli del lavoro universitario questo carattere aperto della ricerca e anche parliamo di disseminazione perché si parla anche di trasmettere i frutti del proprio lavoro agli studenti e ha parlato anche di di presidio quindi riferendosi in particolare ai vocabolari ma io credo che questa idea di presidio possa essere anche diciamo allargata in qualche modo quindi un argine in qualche modo comunque una riflessione su quello che diciamo sulle parole che usiamo perché sono 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 importanti le parole valgono appunto per richiamare questo bel titolo bel titolo recente quindi questo questo mio piccolo intervento insomma in favore del del seminario e in favore direi di una di una parola così ricca se noi pensiamo appunto alla nostra vita universitaria e a chi abbiamo di fronte speriamo anche adesso ma insomma sicuramente all'interno delle nostre aule cioè gli studenti abbiamo un'immagine perfetta di quello che fa un seminario cioè curare accudire aiutare a crescere giovani piante che poi all'esterno nei loro contesti dove si troveranno ad operare nella loro vita potranno crescere fiorire e fruttare quindi chiudo con questo la mia breve riflessione e vi ringrazio ancora per averci invitato a condividere queste nostre piccole riflessioni con voi Alessandro adesso ultimo ma non ultimo come si dice ma davvero perché Michele darà un prezioso contributo sul tema delle parole nella sicurezza noi abbiamo un corso di laurea in scienze politiche con indirizzo di investigazione e sicurezza sia antrenale che magistrale il tema della sicurezza da noi è molto studiato e Michele è uno dei protagonisti di questo sforzo formativo e di ricerca grazie 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 Alessandro per l'invito innanzitutto per la ben segnare come appunto ho modo così di partecipare grazie alla professoressa Ressanesi per la sua lezione ai colleghi appunto per i loro interventi cercherò anche io di essere breve e di dire appunto qualcosa di interessante sulla questione della sicurezza dal punto di vista innanzitutto del termine del concetto ma poi anche appunto come diceva Alessandro per quello che riguarda gli aspetti relativi alla percezione e da questo punto di vista possiamo partire appunto da quella che è una definizione che possiamo leggere sull'edizionario sullo capolare appunto della Treccani che è quella della sicurezza come condizione che rende e fa sentire di essere esente da pericoli e che dà la possibilità di prevenire eliminare o rendere meno gravi danni rischi difficoltà evenienze spiacevoli e simili già da questa definizione si può cogliere il fatto che si oscilli tra l'esenzione cioè quasi l'annullamento dei fattori di insicurezza e invece un'attenuazione soltanto di tutto questo e questo mette un po' di difficoltà rispetto all'indicazione della professoressa Nesi di argomentare appunto le singole parole perché in effetti nel caso della sicurezza è quasi implicito il dover far riferimento al concetto di insicurezza anche se come vedremo è opportuno considerarli non tanto nell'ambito di una dicotomia quanto piuttosto di un continuum che va appunto da una massima sicurezza che non è mai totale a una minima sicurezza o appunto il suo opposto l'insicurezza per lo più il concetto viene riferito all'individuo lo si fa quando ad esempio nelle definizioni che le dà Maslow nella famosissima abusatissima scala dei bisogni quando parla appunto di bisogno di spravvivenza piuttosto di bisogno di incolumità personale o Ceri quando parla appunto di sicurezza d'aco intesa appunto come vulnerabilità come protezione o sicurezza d'intesa invece come libertà come possibilità di azione o anche l'altra classificazione classica di Bauman che appunto parla della sicurezza intendendola come certezza e capacità di guardare verso il futuro piuttosto che come sicurezza nel vivere quotidiano e anche come difesa dell'identità sociali per arrivare poi all'accezione in termini di safety ancora una volta in chiave di incolumità ma chiaramente il concetto poi può essere applicato e riferito ad aziende organizzazioni comunità associazioni società eccetera fino ad arrivare a una dimensione di carattere globale appunto se ne parla anche sempre più in questi termini perché il concetto tende ad essere ad esplodere in qualche modo ed essere applicato a livello internazionale complessivo soprattutto in relazione a fenomeni come l'inquinamento piuttosto che il terrorismo e via di seguito chiaramente l'insicurezza guardando appunto al termine opposto è una condizione naturale evidentemente ed è quasi paradossale che venga considerata molto elevata in una società tutto sommato molto sicura o straordinariamente più sicura di praticamente ogni altra come quella occidentale contemporanea però questo dipende dal fatto che in una società sicura in cui si sviluppa una cultura della sicurezza ovvero dei modi di pensarla di sentirla e di costruirla ovvero di viverla in effetti si assiste a quel fenomeno che Castella ha qualificato come cursore della sicurezza cioè il fatto che quando siamo consapevoli della presenza di alcuni fattori di insicurezza tendiamo a percepirne sempre altri per cui anche quando ci mettiamo a sicura su alcune fronti di fatto continuiamo a sentirci insicuri perché nel frattempo ci accorgiamo di altri elementi di sicurezza è una sorta di fenomeno inflattivo della sicurezza chiaramente questo ci pone anche di fronte all'esigenza di ragionare anche su quelli che possono essere termini che vengono talvolta usati e confusi l'uno con l'altro e che rimandano all'invenzione di sicurezza in particolare viene in mente l'uso dei termini pericolo rischio e minaccia in realtà sono termini che andrebbero distinti e non rimandano esattamente allo stesso tipo di significati perché cambia dall'uno all'altro il livello di intenzionalità del soggetto che è fonte di insicurezza diciamo poi che molto per arrivare a un po' gli aspetti percettivi che c'è una tendenza nella società contemporanea appunto il nome di quel fenomeno del cursore della sicurezza a cercare una sicurezza quasi totale e in fine conti anche le molte narrazioni ci descrivono la realtà in questi termini e ci fanno immaginare appunto un mondo nel quale potremmo restare quasi in eterno quasi appunto conferendo una sorta di mortalità appunto a tutti noi e quindi questo obiettivo della sicurezza assoluta che in realtà evidentemente non è perseguibile ecco riferendo poi il ragionamento alla realtà contingente appunto alla situazione pandemica può essere interessante anche distinguere tra la sicurezza tra potremmo dire rilevata scientificamente da un lato e percepita dall'altro da questo punto di vista possiamo facilmente richiamare alcune distinzioni alcuni termini che abbiamo sentito utilizzare molto spesso nel dibattito pubblico attuale ovvero la contraposizione tra allarmisti e negazionisti tra rigoristi e riduzionisti tralasciando poi il ragionamento anche sulla distinzione su tra allarme e allarmismo che abbastanza intuitivamente possiamo qualificare in termini di riferimento alla dimensione più razionale da un lato e sentimentale potremmo dire dall'altro in effetti poi da questo punto di vista si è cercato di trovare una sorta di mediazione per cui la distinzione che forse è più neutra appunto tra questi due orientamenti rispetto alla percezione dell'insicurezza è quella che appunto prevede da un lato i così rigoristi dall'altro i riduzionisti ecco la cosa interessante pensando anche agli aspetti di carattere politico e anche qui all'uso di termini che ruotano appunto la dimensione della sicurezza si può notare un orientamento diverso tra destra e sinistra rispetto da un lato alla pandemia e dall'altro alle politiche migratorie nel senso che se utilizziamo i concetti di allarme da un lato e illusione dall'altro possiamo vedere come nel caso della destra ci sia una tendenza a allarmare a lanciare l'allarme sul fronte di migrazione ma a lungo c'è stata una sostanziale illusione o comunque sottovalutazione un orientamento tendente più al riduzionismo per quello che riguarda la pandemia e possiamo rilevare sostanzialmente un qualcosa di contrario nel caso appunto della pandemia appunto con una sinistra molto più attenta a valutare come molto problematico la questione e invece la destra appunto sul fronte dell'immigrazione accade il contrario nel senso appunto si tende a non qualificare questo questo tipo di politiche come particolarmente rilevanti certamente ecco come diceva Alessandro appunto in premessa in introduzione appunto del seminario l'aspetto percettivo è importante nel diritto ma non soltanto e in ogni caso bisogna tenere conto del famoso teorema di Thomas ma anche questo molto citato secondo cui le situazioni che si percepiscono come reali appunto determinano comunque conseguenze reali per cui anche quando percepiamo appunto in modo inappropriato di vivere in un contesto di insicurezza che qualche qualcuno anche qualche politico si preoccupi di rassicurarci può essere qualificato non in termini di politiche irrazionali perché appunto essendoci un reale bisogno di ricreazione della sicurezza di rassicurazione in merito al proprio vivere in un contesto di sicurezza e richiede interventi appunto altrettanto concreti una cosa interessante è poi sull'uso delle parole ma in generale anche sulla comunicazione in merito alla pandemia è legata al fatto che noi in sociologia non soltanto in sociologia si usa questo tipo di di concetto di di teoria parliamo di di profezia che si autodempie concetto utilizzato in particolare da Merton in realtà è quello in caso della pandemia accade un po' il contrario nel senso che c'è la profezia che si autosmentisce nel senso che nel momento in cui si lancia l'allarme e si cerca di indurre comportamenti appunto rigoristi più attenti allo della salute di fatto si determina o si aiuta a realizzare una situazione in cui il virus si diffonderà di meno il contrario viene nel caso appunto in cui un un virologo un politico tendano invece ad assumere un orientamento riduzionista o negazionista così facendo così dicendo agevoleranno invece la diffusione del virus sostanzialmente quindi di fatto c'è questo paradosso appunto che possiamo rilevare appunto in relazione alla pandemia di questa profezia appunto che si autosmentisce è chiaro che è molto rilevante in questo anche così come ha sottolineato il collega Pacini la questione della regolazione da un lato della autoregolazione o del buon senso dall'altro certamente ecco si può notare come nella gestione della 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 pandemia si sia spesso utilizzato un orientamento comunque non in grado di gestire adeguatamente la situazione nel senso si è adottato un modello che si potrebbe definire come complicato laddove appunto i virus meriterebbero una gestione invece in chiave di fenomeni complessi quindi anche qui linguaggio a volte si è parlato di interventi a volte no spesso in modo ricorrente di interventi proporzionali per gestire un fenomeno che invece è all'opposto per definizione più che proporzionale appunto per capacità di crescita altri paradossi legati in questo caso all'uso delle parole ma anche appunto i significati che qui rimandano è quello delle chiusure spesso si parla di una gestione una capacità una possibilità una necessità anzi di fronteggiare l'insicurezza cercando di confinare spazi e persone in cui o difendersi quindi alzando la barriera verso ciò che esterno o in cui segregare per appunto evitare che poi la fonte dell'insicurezza possa possa colpirci ma anche qui abbiamo dei paradossi perché la segregazione ad esempio per quello che riguarda il fenomeno del terrorismo internazionale di matrice islamica genera che cosa? Il fatto che il sostanziale abbandono di alcune aree territoriali alcuni spazi delle nostre società diventino terreno fertile per i fenomeni di radicalizzazione e anche di autoradicalizzazione per cui facendo un esempio che un po' esce dal discusso che stavo sviluppando fino adesso ma che può essere comunque pertinente a questo proposito tornando un po' alla questione della pandemia abbiamo immaginato una situazione in cui nelle nostre case si potesse creare una situazione di sicurezza e vediamo che appunto il virus invece si rifonde nelle abitazioni tra congiunti o tra familiari e non soltanto ma appunto nella realtà degli ultimi mesi sono aumentate le violenze nei confronti delle donne appunto che si sono tratte in un contesto tutto altro che sicuro e rassicurante andiamo verso la chiusura ecco un ulteriore aspetto è poi legato e questo appunto ci rimanda anche alla questione della percezione sociale e anche al potere del contesto quindi non bisogna non bisogna comunque sottovalutare gli aspetti relativi agli spazi in cui viviamo a livello di percezione quindi non soltanto appunto non si tratta appunto soltanto di parole come diceva Chiara ma appunto c'è una questione anche legata ad aspetti comunicativi di altro tipo anche di carattere simbolico e da questo punto di vista possiamo citare la notissima teoria delle finestre rotte secondo cui appunto in un contesto nel quale troviamo indicatori di un ambiente degradato abbandonato in cui poco controllato tenderemo comunque ad aspettarci una situazione appunto di potenziale pericolo comunque di insicurezza ma questo da un lato ha dato luogo alle cosette teorie pratiche politiche di tolleranza zero che sembra appunto mettere voler regolamentare un po' tutto e dare anche qui forse l'illusione di una di un controllo pieno delle società in cui viviamo l'applicazione più nota è quella nella città di New York durante l'amministrazione Giuliani in realtà però con questo tipo di orientamento è importante perché sottolinea anche il fatto che si possano cambiare le cose a partire appunto da interventi legati appunto al linguaggio ma anche poi all'interventi sui contesti sugli aspetti fisici e simbolici che li caratterizzano un'ultima cosa su cui vorrei soffermarmi è poi legata anche all'utilizzo di parole ma anche di interventi che si differenziano a seconda dei soggetti a cui si rivolgono nel senso che ci sono appunto diversi modi attraverso i quali è possibile costruire la sicurezza che possono andare da risposte oggettive oppure a risposte in termini di rassicurazione come dicevo prima oppure a risposte in termini di prevenzione però questo cambia molto a seconda che i soggetti a cui ci si rivolge siano quelli che possiamo definire come degli insiders da un lato o degli outsiders da questo punto di vista ad esempio per quello che riguarda una prevenzione che sia di carattere strutturale la prevenzione appunto nel momento in cui si rivolge a chi consideriamo altro al di fuori del sistema un insider cercheremo appunto di cioè un outsider scusate cercheremo di eventualmente includerlo nella nostra società laddove invece per i soggetti considerati interni appunto al sistema di questa parte si adotterà un'ottica di rassicurazione abbiamo invece poi un orientamento più di rassicurazione nel caso della prevenzione situazionale per gli insider e di disfasione nel caso degli outsider e infine appunto abbiamo un contrasto situazionale che si declina in chiave di tutela di protezione di chi è all'interno del sistema quindi di un insider e di una repressione invece di chi è all'esterno per chiudere vorrei dire questo che forse tutto sommato viene sopravvalutata la diffusione della dell'informazione quindi la trasparenza anche di ciò che la politica decide e fa attraverso gli strumenti legislativi di cui hanno parlato i colleghi giuristi e perché appunto da questo punto di vista il fatto di essere trasparenti può laddove appunto non si sia in grado di comprendere appieno le parole ma anche appunto i dati le informazioni che ci vengono rivolti si può creare evidentemente da un lato un fenomeno di sottovalutazione dall'altro appunto invece un fenomeno di panico ed entrambi gli aspetti possono comportano il rischio di aumentare l'insicurezza fondamentalmente grazie grazie Michele grazie a tutti professoressa Nesi vuole aggiungere qualcosa prima di salutarci non la sentiamo no scusi non avevo riattivato il microfono sono molto stata molto interessata sono alcuni dei problemi che avete trattato quelli che ha trattato lei in particolare o anche il Pacini e Chiara Moroni erano argomenti che in qualche maniera come dire mi erano più noti e quindi ho potuto approfondire con più facilità in altri casi magari avevo ovviamente un bagaglio di base molto più misero e quindi non potevo non potevo che ascoltare con interesse mi è piaciuto l'intervento diffusi perché eravamo vicini cioè vicini di argomento effettivamente a parte il garbo mi è piaciuta la partenza in tutto ripeto perché è una questione di comunicazione fra simili no e quindi ci sono si capiscono delle cose al di là e su questa storia di webinar io mi sono fermata ma ha detto molto lui effettivamente abbiamo questo problema di accettazione però la parola è molto vecchia perché la parola del 2007 ha avuto un'ascesa un picco proprio guardando nelle pagine di google dei giornali ha avuto un picco anche perché questa è un'offerta le ormai ci sono stazioni che offrono questi servizi e quindi la parola è cresciuta a livello esponenziale questo non significa che a differenza magari dei nostri vicini francesi o spagnoli non noi facciamo visto com'è il pensiero generale se la parola entra ed è di uso come dire si acclimata questo non vuol dire non si facciano tentativi di traduzione però su questo non ci sono riusciti nemmeno negli spagnoli né francesi hanno fatto un adattamento mentre per il lockdown noi l'accademia si è mossa dicendo esiste la parola confinamento io inizialmente non sapendo come chiamare la chiamavo clausura perché francamente mi sentivo in clausura poi dopo c'è il confinamento il lockdown per me io conoscevo il significato inglese e non mi piaceva cioè quindi il problema del trasferimento da una lingua all'altra è che anche la lingua di origine ha le sue perdite perdita di significato perché il lockdown per noi è un'altra cosa a questo punto però vince questa parola inglese perché i media usano soprattutto questa e noi non si impone ovviamente però è un pericolo questo dell'anglismo che vediamo pericolo insomma la nostra lingua regge bene ancora è che in questi casi siccome il fenomeno della pandemia è un fenomeno internazionale arrivano di più elementi di questo tipo per il resto veramente ho imparato e sono contenta grazie a lei grazie a lei grazie ai colleghi che hanno presenziato questa occasione e spero sia insomma speriamo con tutto il gruppo di cerca con Fabio Luigi e Chiara che siano diciamo la seconda di altre tappe in cui incontriamo studiosi e accademici di materie confinanti acquisiamo elementi importanti sul cambiamento delle nostre relazioni umane sociali e tecnologiche io vi auguro una buona festività auguro a tutti voi maggiori successi ringrazio ancora la collega Nesi per la disponibilità per il tempo per la pazienza per l'aspetto con cui potete stare con noi in queste tre ore grazie davvero grazie a tutti faccio gli auguri per il vostro seminario sperando che presto lo possiate fare in presenza e questo è un augurio ci facciamo tutti per il futuro buone feste auguri grazie auguri auguri a tutti grazie ancora grazie ciao grazie a tutti